bene buongiorno eh possiamo iniziare molto puntualmente questa giornata eh che è la seconda giornata della serie di eventi agricoltura duemila trenta che l'Accademia dei Giorgofili ha voluto eh organizzare e eh per un po' raccogliere le urgenze del mondo agricolo e poi eh prospettarne e illustrarne molti problemi ma anche soprattutto trovare offrire conoscenza e trovare e offrire soluzioni ai problemi che si stanno evidenziando e comunque un'agricoltura nuova di un mondo nuovo un'agricoltura che bene o male si accambia e si allina i tempi quindi parliamo di gestione dei suoli parleremo di abbiamo parlato di tecnologie nuove tecnologie parleremo di PAC dei rapporti con la società produzione animali vegetali innovazione conoscenza insomma una serie di nove incontri che si propone proprio o un dialogo tra il mondo produttivo il mondo della conoscenza e l'agricoltura il prossimo evento ve lo ricordo subito il 4 giugno e si parleremo di foreste ecco questo è il secondo evento della serie è un evento eh che parla noi parliamo di scusate mi metto sotto il programma agricolta il contrasto ai cambiamenti climatici eh l'argomento è scottante attuale io vorrei dire che eh questa è proprio la sede credo giusta eh eh per parlare di questo perché l'accademia è stata precorritrice veramente di questa di questi argomenti di questa tematica in particolare con la persona del professor Maracchi che già più di trent'anni fa iniziò a parlare proprio in questa sede e a creare anche una scuola sulla sulla tematica della del del problema eh del cambiamento climatico sulla sull' agricoltura e soprattutto sui suoi impatti eh che la complessa che la tematica sia complessa è è totalmente assolutamente intuitivo perché agli aspetti agricoli produttivi veri e propri si uniscono poi una serie di eh coniugazioni ad esempio a modelli di sviluppo socio-economico modelli globali eh che che coinvolgono la sostenibilità poi politiche politiche indirizzi governativi ad esempio il Green Deal che è stato tanto voluto e poi un attimo poi discusso e ridimensionato successivamente ma poi eh la cosa più importante è proprio eh la parte fisica cioè come il clima cambia qual è la portata qual è l'entità del cambiamento climatico eh quali sono le cause e le concause che lo provocano e gli scenari che ci saranno quindi le incognite che bisogna bisognerà affronteggiare eh lo sappiamo che la modifica del quadro della circolazione sinottica generale comporta una modifica una modifica del regime termico e questo in pratica si vede dalla eh prima della primavera anticipata e si vede da autunni che sono prolungati quindi da impatti effetti sulla fase fenologica delle piante che poi causano eh diciamo di di converso una serie di eh modifiche alla alla pianificazione e le attività agronomiche quello che colpisce di più però a livello di cronaca sono gli eventi estremi abbiamo visto queste piogge violente eh che si sono verificate in aree agricole si verificano in aree agricole anche molto importanti abbiamo visto l'Emilia Romagna, Toscana e Veneto che non sto a parlare di questo però collegate anche diciamo un problema poi territoriale di gestione del territorio e non solo dell'agricoltura e che poi si alternano a momenti di siccità di scarsa di chiamiamola scarsa disponibilità di acqua alle piante quindi di siccità che avviene non soltanto nel nel parte del centro sud Italia ma anche in altre zone e che comunque comporta un numero crescente di culture che hanno bisogno di essere irrigate. Poi abbiamo il problema delle ondate di calore estive quindi un numero di giorni eh spesso anche successivi uno all'altro in cui le temperature si alzano sopra i 30-35 gradi causando problemi alla fisiologia delle culture così come abbiamo eh anche i rischi eh spesso ricorrenti di gelate tardive che danni causano soprattutto eh la non solo alla quantità ma anche la quantità delle produzioni. Beh eh la complessità dell'agricoltura ovviamente è importante perché l'agricoltura dipende la la produttività cioè la massimizzazione della produttività di una certa specie o varietà dipende tanto dalla sua attitudine genetica ma poi come da anche da come questa attitudine genetica riesce a esprimersi in funzione del luogo in cui le queste piante vengono coltivate quindi in funzione del chiamiamola la cosiddetta vocazionalità territoriale e eh poi anche ovviamente dalla dalla capacità e dall'attività dell'agricoltore che per ottenere questo massimo di produzione eh inserisce nel sistema una serie di input che sono input diretti e ovviamente sono energetici sono chimici sono di lavoro che a loro volta si portano dietro una serie di emissioni di gas proprio perché sono stati prodotti quindi oltre all'attività diciamo le emissioni dirette che eh l'agricoltura può causare o che è comunque additata da causare al clima eh di di portare al clima esistono anche emissioni di emissioni di indirette di sostanze ad effetto serra quindi da un lato l'agricoltura è estremamente vulnerabile ai cambiamenti climatici dall'altro è un po' anche additata come eh indicata come responsabile parziale del del cambiamento climatico in particolare ovviamente non soltanto per le emissioni di enetride carbonica ma anche per quelle di metano e di protossido d'azote la azotecnia poi è in particolare sotto sotto mirino proprio per questo e quindi un po' quella che è l'agricoltura climaticamente intelligente che veniva un po' così chiamata anche dalla FAO qualche anno fa che è un concetto un po' adesso un po' ne parlano anche un po' meno è proprio quella quella di cercare di eh introdurre adattamenti e anche possibilità di mitigazione ecco però per conoscere come poi l'agricoltura può mitigare bisogna anche conoscere veramente che cosa emette quindi non soltanto le specie chimiche che vengono immesse in atmosfera ma anche le loro proprietà la loro reattività e anche la loro soprattutto il tempo medio di supervivenza in atmosfera ed ecco che in questo caso ecco importante capire nella rispettiva eh potenzialità di riscaldamento quindi questo famoso global warming potential di cui tanto si parla e di cui oggi parleremo e quindi sono tutte tematiche di grande rilevanza che oggi eh discutiamo qua e discutiamo qua con tre personalità secondo me di grande non secondo me ma secondo tutti di grande di grande conoscenza e rilevanza che hanno avuto la gentilezza tra l'altro di essere presenti in sala e ringraziamo anche tutte le persone collegate online ho scordato di farlo prima quindi avremo il professor Marco Bindi professore ordinario di agronomia ve li presento ora così poi loro parleranno direttamente è professore ordinario di agronomia e coltivazioni erbace qui a Firenze all'università è stato direttore dello stesso dipartimento precedentemente vicepresidente della facoltà di agraria e prorettore per la ricerca nazionale e internazionale dell'università di Firenze ha coordinato numerosi master e membro di molti collegi di dottorato e oltre alla sua intensa attività universitaria ed accademica anche come come giorgofilo è autore leader di numerosi capitoli dell'IPCC quindi dell'International Panel of Climate Change e per meriti scientifici complimenti a comandatore della Repubblica. Poi abbiamo il dottor Flavio Varossi che è qua con noi dottore agronomo, libero professionista, imprenditore agricolo, è il presidente del riconfermato per acclamazione della società agraria di Lombardia e che è un'accademia estremamente attiva che dipende con grande ardore e con grande competenza tramite i propri studiosi la nostra agricoltura sempre pensando al futuro ma senza dimenticare poi diciamo la gloriosa tradizione del passato e difende molto il metodo scientifico, l'innovazione tecnologica, la tutela della libertà di impresa, il rispetto delle leggi e delle regole di mercato e di concorrenza quindi un'accademia estremamente attiva nella protezione e la difesa della nostra agricoltura e nella promozione dell'agricoltura. Poi abbiamo con noi il professor Giuseppe Pulina, professore ordinario di isotecnia speciale presso il dipartimento di agraria dell'università di Sassari e attualmente prorettore alla ricerca della stessa università, docente di alcuni corsi molto interessanti, etica e sostenibilità di allevamenti e di carni sostenibili nel corso magistrale in scienza delle produzioni esotecniche e anche di filosofia ed etica della ricerca, sempre del dottorato in scienza agraria. Oltre a sua presenza universitaria è molto attiva nel mondo accademico sia come l'Accademia dei Giorgofi, l'Accademia dell'Agricoltura, l'Accademia di Pesor Urbino ed è presente anche nel mondo produttivo perché è presidente dell'associazione no profit carni sostenibili, stato commissario di numerosi enti regionali della Sardegna ed è attivo in comunicazione e disseminazione perché oltre alle pubblicazioni scientifiche ha prodotto anche software di gestione ed è divulgatore, autore e coautore di libri importanti dedicati agli allevamenti animali anche in relazione alla loro presenza nel paesaggio e anche nella comunicazione perché ha fatto lungometraggi poi collabora con numerose quotidiane riviste del settore. Quindi abbiamo tre persone molto autorevoli che certamente ci comunicheranno il loro sapere nella maniera più chiara e quindi possiamo iniziare direi e può cominciare Marco Bindi. Grazie Marco. Ora funziona. È, mi sembrava fosse. Allora, ringrazio, ringrazio Federica in generale per avermi chiaramente dato questa opportunità e anche per aver ricordato all'inizio come come questi argomenti sono stati trattati in questa sede e in questa sede intendo proprio fisicamente a partire dalla fine degli anni Ottanta. Io mi ricordo, due minuti me li date, mi ricordo perché di questa cosa in quanto Maracchi appena laureato mi disse c'è un corso sui cambiamenti climatici all'Accademia organizzato dalla Comunità Europea a settembre e io dissi bene, mi farebbe piacere che partecipasse, sì sì però è tutto bene la settimana prima che io mi sposi e insomma sapete bene insomma è quando uno si sposa insomma effettivamente mettere insieme un corso full time con con la preparazione un matrimonio non è proprio la cosa la cosa più semplice. Devo dire che insomma feci di tutto per essere presente in entrambe le cose insomma quindi gestire tutte e due le cose ma quell'occasione per me effettivamente fu un'occasione fondamentale, importante senza rendermene conto quasi perché poi a posteriori mi resi conto delle persone e delle personalità che erano qui presenti e proprio durante questa settimana in un incontro con uno dei maggiori esperti all'epoca ma ancora tuttora perché poi è stato coordinatore a livello di IPCC Martin Parry che venne via a Firenze e che questa è la cosa curiosa arrivò con tre fogli di carta, erano tre fogli di carta in cui in un foglio di carta c'era una mappa molto stilizzata dell'Europa con una griglia in cui ci saranno state 10-12 griglie sopra l'Europa, in una c'erano gli aumenti delle temperature massime, in una delle temperature minime e una delle variazioni delle precipitazioni. Con quella diciamo tre fogli di carta, quindi immaginatevi ora le tonnellate di dati che vengono diciamo elaborati, feci il mio primo lavoro che era sull'impatto del cambiamento climatico sull'areale di coltivazione dell'olivo. Su tre fogli di carta, elaborazioni fatte 20-30 anni fa non è che poi si sono discostate tantissimo da quella diciamo elaborazione. Questo per dire come effettivamente questo argomento qui abbia avuto insomma sede importante e in quell'occasione ha formato, tra l'altro io penso forse ero uno o due degli unici italiani, quindi ha formato anche una generazione poi di persone che si sono occupate di cambiamenti climatici. Quindi mi ha fatto piacere che tu abbia ricordato perché insomma è un ricordo abbastanza vivo, forse il mio primo ricordo dell'accademia perché prima probabilmente l'avevo vista più da fuori che da dentro. E quindi grazie per questo e grazie per l'invito. Il titolo vedete della mia presentazione è abbastanza lungo, devo dire. Si parla di crisi climatica e di che cosa aspettarsi, quindi parleremo diciamo sia di che cosa già ci interessa, quindi quello che ci colpisce già attualmente. Parleremo di strategie di adattamenti, quindi io su questa mia relazione mi soffermerò sulla parte di adattamento. Ora io dico sempre che quando si parla di cambiamenti climatici diciamo le tre, le tre diciamo leve, quindi l'impatto, l'adattamento e la mitigazione sono tre elementi ugualmente importanti. Quindi dico questo perché spesso e volentieri l'adattamento è visto diciamo come una una misura in qualche modo meno green e più grey, cioè nel senso non riesco a ridurre le emissioni, non riesco a far certe cose, allora mi adatto. Ma in realtà sappiamo bene che se vogliamo dare una risposta globale e che effettivamente produca degli effetti, adattamenti, mitigazione e impatti sono tre elementi che sono ugualmente ugualmente importanti tra di loro perché come ha detto anche Federica, noi dobbiamo rivolgersi a spesso e volentieri dagli agricoltori. Gli agricoltori ovviamente hanno degli interessi, sì ovviamente sono lungimiranti in alcuni casi e hanno interessi molto lontani nel tempo ma spesso e volentieri gli interessi sono interessi molto diretti e pronti, quindi vogliono anche delle risposte nel breve periodo e ovviamente la componente adattamento è quella che forse ti può dare più risposte nel breve periodo rispetto a quella della mitigazione che tutti sappiamo è importante, fondamentale ma risposte nel breve te ne dà meno e sicuramente anche meno tangibili per l'agricoltore. E quindi però io oggi parlerò appunto solamente della parte della parte di adattamento quindi parlerò di impatto e di adattamento mi sono un po' allargato parlando di coltivazione erbace a parte culturale erbace e arborei dei sistemi perché mi sono occupato effettivamente anche se io ovviamente sono un docente di agronomia e coltivazione erbace poi occupandomi di cambiamenti climatici avendo preso un po' l'approccio del professor Maracchi che appunto non faceva tanta distinzione tra una pianta più alta o meno alta di un metro e quindi insomma nel senso se si studia un punto di vista climatico un sistema lo si studia nel suo insieme quindi mi sono occupato poi anche di specie erboree. L'ultima cosa che volevo dire è l'esempio perché l'esempio dell'areale toscano qui ecco ho cercato cioè nel senso ho voluto quasi valutare effettivamente quello che che abbiamo a disposizione per quello che potrebbe essere appunto un areale che è il più vicino a noi ovviamente oggi siamo siamo in Toscana e quindi evidente siamo a Firenze e l'areale che c'è più vicino ma più che altro è un areale regionale perché effettivamente vi sarà capitato che molto frequentemente gli studi che parlano di cambiamenti climatici spesso parlano di cambiamenti climatici a larga scala di impatti a larga scala di strategie di adattamento a larga scala mitigazione a larga scala quindi l'approccio spesso e volentieri è un approccio a larga scala c'è ci sono delle ragioni oggettive ovviamente gli strumenti che abbiamo a disposizione permettono di fare quelle valutazioni che valutazioni a scala più limitata perché ovviamente l'interesse se si fa un'analisi a livello mondiale europeo a maggior interesse di un'analisi a livello regionale però effettivamente e lo l'ho voluto appunto provare e vedere a livello regionale quanto noi abbiamo a disposizione per poter dire che cosa accade realmente e che cosa potremo fare ed effettivamente ve lo dico si è andata a vedere la bibliografia cioè quello che viene pubblicato quello che si trova appunto molto più studi a diciamo dimensioni spaziali molto più ampie rispetto a quella che è la dimensione la dimensione regionale perché ripeto gli strumenti magari sono più adatti per quelle cose e quindi a un certo punto manca proprio questa questa scala intermedia no perché poi si passa alla scala puntuale allora la scala puntuale c'è lo studio che viene fatto puntualmente estremamente preciso che però poi ha difficoltà di essere estrapolato ad una scala maggiore e quindi manca quasi devo dire anche a livello italiano perché nel senso anche se andate a vedere gli studi a livello italiano non è che poi insomma ci sia questa grandissima disponibilità di informazione rispetto a quando per esempio si parla di anche di studi a livello mediterraneo ecco se si parla di studi a livello mediterraneo già lì si comincia a trovare molta molta documentazione quindi il fatto di scegliere l'areale toscano l'ho fatto anche proprio per in qualche modo vedere valutare che cosa abbiamo a disposizione che risultati abbiamo e quanto questi sono magari diversi rispetto a scale diverse quindi io parto ovviamente da una parte di inquadramento climatico perché questo ce l'eravamo diciamo in qualche modo messo d'accordo anche con con Federica di partire e dare un inquadramento un po' climatico visto che poi i due successivi relatori ovviamente andranno più sugli aspetti legati agli impatti a strategia di adattamento e di mitigazione io ovviamente parlando di Toscana ho volutamente cercato di trovare informazioni che rispondessero a questo a questo areale è evidente che tante delle cose io vi dirò sono facilmente estrapolabili a regioni vicine e addirittura diciamo al al contesto al contesto nazionale bene queste queste questa slide le prossime due o tre slide hanno come fonte il lama il lama chi 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 vive ovviamente in Toscana lo conosce meglio è un laboratorio che si occupa appunto di tutto quello che riguarda la meteorologia e la climatologia e in questo caso si tratta di uno studio fatto appunto dal dal lama nel quale si dà una panoramica di come le le temperature sono cambiate diciamo negli ultimi negli ultimi decenni gli elementi che sui quali mi piace soffermarmi su questa su questa diapositiva sono sono essenzialmente essenzialmente due il primo è che vedete quei numeri 0 5 cioè negli ultimi anni effettivamente gli aumenti che si sono avuti determinati di determinati parametri sono molto più accentuati di quello che avveniva 20 30 anni fa non per niente ogni anno ci troviamo a dire questo è stato l'anno più caldo è stato l'anno più caldo è stato l'anno più caldo è quasi uno dietro l'altro sono sempre più caldo l'altra cosa che mi piaceva farvi vedere è come effettivamente anche questa variazione già se la dividiamo non più a livello annuale ma la dividiamo a livello delle varie stagioni effettivamente vediamo come non è uniforme quindi vi sono del dei periodi e guardate il periodo estivo in cui ovviamente l'aumento delle temperature è più accentuato e ci sono altri periodi dove effettivamente per tutta una serie di concause gli aumenti delle temperature sono molto più limitati in alcuni casi addirittura si può dire che non non vi sono particolarmente forti aumento quanto meno aumenti aumenti significativi questo per quanto riguarda le temperature per quanto riguarda variazioni medie poi parleremo degli estremi che è l'altra cosa che in agricoltura interessa addirittura forse di più della variazione media la stessa rappresentazione vedete è stata fatta per le piogge per le piogge anche in questo caso si vede una diminuzione delle piogge sia a livello annuale ed è interessante vedete come anche forse ancora di più a livello poi stagionale le differenze siano marcate periodi invernali con forti diminuzioni addirittura periodi autunnali dove le diminuzioni sono assenti o anzi c'è quasi un aumento e questo vedete che ritorna con quella slide precedente nella quale si vedeva che le temperature in questo periodo aumentavano di meno comunque anche in questo caso si evidenziano delle riduzioni delle riduzioni marcate ovviamente in alcune zone queste riduzioni sono maggiori in altre zone sono inferiori e a livello anche delle varie stagioni si vede come effettivamente vi sia una diversità ovviamente se pensiamo all'inverno e la riduzione delle precipitazioni invernali questo sappiamo bene tutti quelli che sono i problemi che si porta dietro poi relativamente alla disponibilità di acqua per i mesi per i mesi successivi cercando invece di parlare non solo quindi di variazioni medie che sono importanti per l'amor di dio ma di eventi estremi sempre a a partire da dati prodotti dall'amma vedete che effettivamente gli ultimi anni sono stati caratterizzati non solo da un aumento medio delle temperature ma da situazioni spesso estreme vedete il 2022 considerando l'anno più caldo ora se guardate quei valori 1 e 2 1 e 5 quei valori ben o male sono valori analoghi a quelli che noi vorremmo nei nostri diciamo desiderata del a livello europeo a livello mondiale raggiungere alla fine di questo secolo no sapete benissimo l'obiettivo di 1.5 o l'obiettivo di due gradi maggiori del periodo pre industriale ecco che ormai in alcuni casi ci troviamo ad avere delle annate che sono molto simili alle annate che noi ci potremo trovare alla fine di di questo secolo quindi in alcuni casi vengono usate queste annate quasi come dei precursori ora la differenza è che queste annate per ora le consideriamo annate eccezionali anche se sono sempre più frequenti ovviamente alla fine di questo secolo se quello è l'aumento della temperatura quelle annate non saranno più eccezionali ma saranno una annate medie quindi sarà diciamo quello che effettivamente ci troveremo ad affrontare quindi hanno più caldo siccità più prolungata vedete nel nel sempre nel 2022 si parla di un meno 13 per cento come di di precipitazioni del 30 per cento in alcune zone l'altro elemento vedete è quello delle gelate no mi sembra che anche prima se ne parlava le gelate sicuramente le temperature diciamo tendono ad essere più alte il numero di gelate sicuramente è minore però la frequenza delle gelate tardive c'è sempre poi la gelata è un evento talmente veloce occasionale di tipo meteorologico non di tipo climatico che bastano poche ore non è necessario che siano giorni o mesi con temperature quindi le nostre piante sappiamo che gli inverni miti che hanno sono sempre più diciamo pronte a riprendere la vegetazione in anticipo e quindi il rischio delle gelate è un elemento di quelle tardive soprattutto prima primaverili è un elemento è un elemento importante perché effettivamente nonostante che queste gelate tendano poi progressivamente a diminuire tante le volte determina molti più danni di quelli che non determinavano in passato vedete poi addirittura il 2023 che è stato considerato come l'anno dei record perché effettivamente il secondo anno più caldo le piogge nella media ma molto 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 concentrate anomalie in termini di temperature vedete o troppo alte spesso troppo alte rispetto ai valori medi e con andamenti anche molto particolari no una primavera fresca però un'estate molto calda addirittura un attorno dal record quindi vedete che in alcuni casi il 2023 si sono avuti in alcuni periodi anche variazioni di più due gradi punto uno quindi siamo andati ben oltre quelle soglie quindi è evidente anche a livello toscano si evidenzia quello che si evidenzia un po' a livello generale che il clima cambia sia con quelle che sono le sue caratteristiche medie ma cambia poi anche nei suoi nei suoi estremi e gli estremi ripeto spesso e volentieri per l'agricoltura sono l'elemento che forse più dell'altro sono particolarmente importanti in quanto le piante soprattutto alcune culture riescono ad adattarsi nel tempo ovviamente ma viceversa se hanno un evento estremo questo evento estremo riescono a gestirlo a gestirlo male poche poche figure e po 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 pochi dati quindi qui vi ho parlato diciamo del clima fino ad oggi alcune indicazioni del clima del clima che ci possiamo aspettare qui questa è una proiezione devo dire per onestà non è una proiezione che stava fatta ieri quindi una proiezione a qualche anno ed è una proiezione vedete molto vicina anche nel tempo perché si parla quando è stata fatta era una proiezione 2021 2021 2050 ora ovviamente vuol dire un lasso di tempo tra il 21 e il 50 quindi rappresentare il clima in quell'intervallo di tempo e per quanto la temperatura riguarda la temperatura ovviamente si vede come quegli aumenti continueranno ad avvenire e quei puntini vi dico che cosa vogliono dire quei puntini verdi quei puntini verdi indicano dove l'aumento è significativo da un punto di vista statistico però vedete che sia se si valuta l'andamento annuale che se si valuta gli andamenti nelle diverse stagioni effettivamente tutte le stagioni risultano presentare degli aumenti anche in questo caso forse la stagione autunnale è quella più conservativa perché poi ci sono come si vedeva prima anche delle delle effetti legati anche alla concomitanza presenza o assenza di precipitazioni comunque da un punto di vista delle temperature diciamo il quadro è molto chiaro questo è un quadro molto chiaro a livello regionale nazionale europeo e quant'altro cioè non troverete mai delle delle proiezioni nelle quali si hanno andamenti diversi rispetto all'aumento poi progressivo delle temperature a meno che ovviamente non si comincia a parlare di una cosa che effettivamente fino a pochi anni fa se ne parlava in modo diciamo molto sfumato del fatto che lo scioglimento dei ghiacci e quindi con la diminuzione della salinizzazione potrebbe portare anche ad una variazione della circolazione oceanica se questo dovesse avvenire effettivamente vi potete immaginare visto il ruolo che la corrente del golfo ha per tutta diciamo l'Europa atlantica una riduzione di una corrente del genere molto probabilmente potrebbe in qualche modo non dico far saltare il banco ma potrebbe portare a delle variazioni rispetto a quelle che che ci aspettiamo però per ora diciamo questo sono teorie neanche teorie sono studi che vengono condotti e che però si deve tenere conto vista l'importanza che poi anche a livello globale hanno le le correnti oceani vado vado alle piogge se vediamo le piogge vedete già le piogge ma questo è abbastanza intuibile le piogge sono un parametro ovviamente molto più discontinuo e molto più variabile rispetto alle temperature e quindi è difficile trovare andamenti consistenti come si trovano nelle temperature vedete nelle piogge se annualmente si indica quasi un piccolo aumento delle piogge poi ovviamente se andiamo a vedere le stagioni c'è una grossa contrapposizione primavera estate con forte riduzione e inverno e soprattutto vedete autunno ritorno all'autunno con invece un aumento un aumento significativo ma perché spesso e volentieri abbiamo questo aumento nell'autunno perché abbiamo visto che a fronte di estati estremamente calde di un fortissimo riscaldamento del mediterraneo cosa accade accade che nell'autunno ovviamente qualora vengano delle correnti leggermente più fredde o più fresche dal nord ovviamente queste determinano degli eventi precipitosi estremamente forti intensi localizzati ma che comunque incidono poi anche sulla quantità di pioggia che cade in questo periodo quindi la visione vedete è una visione non consistente quindi come avevamo nelle temperature ma 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 più variegata bene fatta questa premessa diciamo a livello a livello climatico andiamo a vedere un attimino sempre per quanto riguarda la Toscana andiamo un attimo a vedere gli impatti dei cambiamenti climatici allora io ho ripreso questi ho ripreso queste quello che io ora vi mostro da da due studi uno studio devo dire che ho trovato molto interessante perché è uno studio estremamente recente vedete uno studio pubblicato nel 2024 nel quale si valutano per la Toscana tre culture tra le più importanti quindi frumento girasole e mais si valutano per una serie di scenari climatici che ora è inutile tutte queste sigle anche diciamo andare a evidenziarle vedete in fondo poi c'è una colonna con quel colore marrone che si che si chiama ensemble min che vuol dire che è una valutazione di insieme che quindi mette mette diciamo insieme le valutazioni ottenute dai diversi scenari per darne diciamo una valutazione riassuntiva ecco alcuni elementi sui quali mi piace mi piace soffermarmi e che 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 devono far capire come effettivamente ancora sia difficile fare delle previsioni intanto in questo caso sugli impatti ma questi vengono ovviamente da dei modelli climatici che gli danno informazioni a degli strumenti per poter valutare l'impatto quanto ancora anche i modelli climatici abbiano un'incertezza cioè se voi andate a vedere usare un modello usare un altro modello climatico il risultato che si ottiene è un risultato che in alcuni casi è abbastanza diverso quindi io mi metto anche diciamo nei panni di un decisore politico che ovviamente a fronte di una variabilità di questo tipo mi possa la prima cosa chiedere ma io quale prendo in considerazione se ne prendo uno o una direzione se ne prendo un altro o un'altra direzione ed è per questo che poi questo ensemble cioè questo tipo di elaborazione che mette insieme i risultati di tutti di tutti questi modelli climatici viene sempre più utilizzata perché viene considerata essere quella più consistente dire beh se uno è troppo negativo uno è troppo positivo mettendoli insieme anche se questa diciamo semplificazione poi a livello di risposta delle culture non è che sempre possa dare il il risultato minore migliore scusate ecco in questo caso appunto è stato fatto un'ipotesi per due scenari climatici quelle rcp 4.5 rcp 8.5 allora ve lo dico sono due scenari che onestamente io spero che chi sarà alla fine di questo secolo non si troverà da affrontare eh l'8.5 devo dire sarebbe uno scenario prevederebbe 4 5 6 addirittura gradi di aumento delle temperature e quindi io non ci voglio neanche pensare non ci sarò ma insomma non ci voglio pensare anche l'rcp 4.5 è già considerato uno scenario di quelli che eh prevede aumenti di temperature eh superiori ben superiore a quel grado 1.5 2 gradi che noi ci aspettiamo però questi sono gli scenari che fino ad ora sono stati utilizzati maggiormente per fare questo tipo di di analisi se si va a vedere le risposte di queste culture eh si vede che eh sostanzialmente c'è una differenziazione tra culture estive e culture invernali o comunque autunno-vernine per essere per dirlo in modo più corretto il strumento soprattutto che ha un periodo molto più lungo di sviluppo in realtà è quello che poi in questa elaborazione risente di più della della variazione climatica rispetto invece a quello che avviene per il girasole che ha un periodo ovviamente più breve eh del suo ciclo ha anche esigenze idriche minori e anche del mais che ha esigenze idriche perché ovviamente qui loro parlano di mais irrigato ovviamente non è che non parlano di mais irrigato però in realtà si vede che più la cultura ha un periodo lungo del suo ciclo e più che l'effetto può essere può essere pronunciato più il ciclo invece è breve e meno che magari l'effetto è pronunciato almeno questo è quello che che evidenziano questi che evidenziano queste questo studio eh questo studio non solo eh ci ha dato un'idea di quelle che possono essere gli effetti sulle rese ma vedete ha fatto anche uno studio relativo e fa bisogno di acqua no a quel water print cioè a quanto effettivamente in realtà potrebbe aumentare il il fa bisogno di acqua e quanto in alcuni casi questo potrebbe portare addirittura a dover irrigare culture che non si è mai pensato ovviamente di irrigare precedentemente in questo caso vedete che eh abbiamo una risposta abbastanza simile a quella delle rese in quanto il frumento vedete sia che prendiamo uno scenario più favorevole che uno scenario meno favorevole è quello che quanto meno mette in evidenza che il fa bisogno di acqua potrebbe aumentare più di tutti ma questo è sempre negato al fatto che rimanendo nove mesi sul terreno è evidente che il fa bisogno di acqua alla fine di tutto il ciclo è maggiore e maggiore degli altri però si vede che anche il girasole che è una cultura ovviamente che è messa in estate e che ovviamente nessuno per ora ha mai pensato di irrigare vedete che nella condizione diciamo un po' più pessimistica i fabbisogni idrici comincerebbero ad ad aumentare il mais evidentemente essendo irrigato è quello che poi ne risente di meno ma ne risente di meno perché è irrigato se non fosse irrigato ovviamente non sarebbe neanche coltivabile però vedete che ha quest'andamento abbastanza simile sì c'è una forza una leggera accentuazione del fabbisogno idrico nel nel periodo diciamo nel con lo scenario più pessimistico però vedete ha un andamento come fabbisogno abbastanza consistente e vicino a quello che è chiamato historical e che quindi era lo scenario lo scenario attuale passando a passando alle culture arboree in particolare ovviamente essendo in toscana le due culture arboree che vanno per la maggiore sono la vite e l'olivo qui ho individuato ho trovato i risultati di questo progetto che avevamo anche coordinato era un progetto era un progetto regionale devo dire eh qui purtroppo mi dispiace dirlo però siccome in sala e magari anche collegati ci sono molti 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 ricercatori che hanno avuto anche le loro prime esperienze nei famosi progetti finalizzati no del cnr nei quali effettivamente si riusciva ad affrontare una problematica da molti punti di vista poi ovviamente i progetti sono andati ad essere sempre molto più puntuali sempre molto più orientati eh si sta facendo un grosso tentativo con il pnrr no il pnrr i progetti hanno avuto come obiettivo quello di essere non diciamo di forte orientamento ma eh molto generalisti in modo tale che poi una problematica fosse affrontata a trecentosessanta gradi purtroppo il problema dei progetti del pnrr rispetto a quelli del famoso Raisa ed altri progetti Panda e che qualcuno si ricorderà bene che avevano durate dell'ordine dei sei sette anni e purtroppo il pnrr si arriva a malapena a tre anni ora fare studi in cui si devono prendere in considerazione molte eh approcci molte visioni e quant'altro e farli in due anni e mezzo vabbè senza lasciare stare tutta la burocrazia che ha creato i progetti del pnrr non non è esattamente la la stessa cosa devo dire questo penso sia stato l'ultimo studio finanziato dalla regione toscana nel quale veniva chiesto proprio di esaminare l'effetto sull'agricoltura da tutti i punti di vista quindi dal punto di vista zootecnico dal punto di vista forestale dal punto di vista delle culture erbacee arboree e quant'altro in modo tale poi da dare una visione da dare una visione generale in questo caso io vi ho estrapolato i risultati per quanto riguarda la vite e l'olivo e in entrambi casi vedete che sostanzialmente i due elementi che caratterizzano questo studio sono che il periodo ovviamente di sviluppo delle piante tende ad accorciarsi e l'aumento delle temperature e questo lo vediamo io lo faccio sempre l'esempio di quando era ragazzina andavo a raccogliere l'uva la raccoglievo dalla metà di ottobre e ora chi va a raccogliere l'uva inizia a raccogliere l'uva fino agosto inizio di settembre beh quindi insomma la differenza ci saranno altri fattori altri vitigni altri modi di vinificare e quant'altro però sicuramente il problema di avere una gradazione alcolica troppo elevata porta anche ad anticipare la data di raccolta ed effettivamente vedete che anche in questo studio se si parla della vite si parla di una data di maturazione anticipata si parla di erano stati fatti tre scenari early future quindi un futuro vicino medio e lontano ovviamente si va progressivamente ad un anticipo delle date di maturazione questo comporta poi molte volte anche di conseguenza una riduzione delle rese per quanto lo riguarda l'olivo non non c'eravamo concentrati sulla data di maturazione che è molto più diciamo significativa e ci eravamo concentrati sulla data più significativa che è la data di fioritura e anche la data di fioritura vedete evidenzia degli anticipi ora la data di fioritura effettivamente se comincia anticipare anticipare anche di molto non dico che possa portare a danni da basse temperature però effettivamente ci possono essere maggiori problemi legati a precipitazioni più intense precipitazioni che in qualche modo hanno un'incidenza io se fate non so se avete fatto caso quest'anno alla fioritura dell'olivo ma la fioritura dell'olivo quest'anno è avvenuta 15 giorni normalmente prima di quello che non avveniva di solito la fioritura in Toscana ora in Toscana è difficile dire Toscana perché ma comunque c'ha l'areale intorno a Firenze i primi di giugno beh ormai hanno già tutte fiorito le piante e hanno anche già allegato quindi in realtà quest'anno anche se poi non abbiamo avuto perché se uno ci pensa una prima bella particolarmente calda e qualcosa però effettivamente si vede bene questo anticipo come anticipano queste fasi come si riduce chiaramente il periodo di sviluppo evidente ha delle conseguenze sulle rese per quanto riguarda le piante arboree avevamo fatto uno sforzo in questo studio scusa ah no era andato avanti non me ne ho accolto di cercare di vedere anche i loro effetti sulle sulle fitopatie e in questo caso avevamo c'eravamo concentrati su idio e mosca dell'olivo e devo dire che poi ci avevamo anche come si potrebbe dire indovinato avevamo fatto anche una scelta una scelta giusta perché lo idio che in passato era una malattia sì importante ma non così diciamo determinante forse la peronospora era molto di più in realtà negli ultimi anni è diventato molto più impattante forse della peronospora a parte l'anno scorso insomma in cui la peronospora ha fatto di tutto e la mosca dell'olivo ugualmente la mosca dell'olivo chi si ricorda vent'anni fa era un problema in Toscana quantomeno riguardava la 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 costa ecco sulla costa avevano questo problema io devo dirvi mio nonno mio padre avevano questi questi olivi questo centenario di olivi non avevano mai forse una volta ogni dieci anni una volta ogni quindici anni avevano questo problema con la mosca se uno guarda gli ultimi dieci quindici anni beh insomma diciamo non dico tutti gli anni quantomeno quando uno le porta al frantoio trovare le olive belle pulite che non abbiano incidenza di mosca è veramente difficile in alcuni casi di più di meno e questo ha portato poi ovviamente a raccogliere anche prima perché evidentemente l'incidenza infatti vedete che in realtà se per lo idio le previsioni danno una possibile riduzione e questo essenzialmente legate vedete all'aumento delle temperature soprattutto le temperature estreme lo idio in realtà quando le temperature vanno oltre i 5 gradi effettivamente ha un effetto negativo sullo idio sullo sviluppo e piogge intense perché dilavando molto effettivamente questo e le piogge intense può ridurre l'incidenza viceversa ovviamente per per la mosca dell'olivo sono due i fattori uno il numero di generazioni evidente queste mosche si sviluppano più velocemente fanno più generazione più generazioni fanno più aumenta il numero delle mosche se a questo si aggiunge che gli inverni sono miti e come l'anno scorso buona parte in toscana degli agricoltori non hanno raccolto quindi le olive sono rimaste praticamente sugli alberi perché ormai il freddo è difficile le faccia cadere spesso rimangano sugli alberi non vengono raccolte le mosche tranquillamente ce ne stanno a svernare dentro dentro le nostre le nostre olive e quindi avevamo voluto fare diciamo questa valutazione per queste due fitopatie devo dire che poi abbiamo anche diciamo colto nel segno strategie di adattamento perché ora finora ho detto tutte cose negative vediamo se vi dico qualche cosa positiva alla fine se no poi mi dicono sempre che non racconto solo cose negative e non cose positive strategie di adattamento sempre riprendendole diciamo dai due studi che vi ho fatto vedere precedentemente nello studio quello questo recente questo di villani fatto nel 2024 a quelle valutazioni sulle tre culture quindi su frumento girasole e mais è stato fatto uno studio dei possibili diciamo adattamenti per ridurre quegli impatti negativi e qui vedete sono state ipotizzate sei pratiche ma pratiche direi molto abbastanza semplice nulla di estremamente di estremamente complesso no vedete anticipare la semina o posticipare la semina irrigazione supplementare scegliere delle culture delle varietà a ciclo più lungo e quindi avere se avere se la stessa specie prenderne una varietà che abbia un ciclo più lungo prevedere zero tillage quindi non lavorazione prevedere cover crops quindi culture di copertura quindi sono state diciamo fatte delle ipotesi su queste sei che sono pratiche devo dire normalmente utilizzabili non richiedono ecco particolare innovazione tecnologica o quant'altro prevedono ovviamente una valutazione ecco qui ci sono tanti numeri e quindi non è che mi metterò ovviamente a descriverveli tutti ma la cosa interessante dello studio cioè le cose interessanti di questo studio sono essenzialmente essenzialmente due per quanto riguarda ecco se il mais era quello che subiva di più la riduzione dell'impatto dei cambiamenti climatici in realtà lo studio evidenzia che l'utilizzo di determinate pratiche di adattamento in particolare anticipare la semina avere delle varietà a ciclo più lungo effettivamente portano sempre dei vantaggi quindi riescono a ridurre quell'impatto negativo del cambiamento climatico ovviamente se a questo si aggiunge ma io devo dire la supplementary irrigation sul frumento non me la sento onestamente di consigliarla almeno almeno per ora effettivamente anche questa può essere una pratica che ha dei rispolti positivi ma la cosa interessante dello studio è la sinergia cioè quando che invece che usarle singolarmente le si usano diciamo in modo combinato e si riescono ad avere anche delle sinergie dove vedete quei valori quei quei quelli l'indicazione del più e del meno indicano se si sono avute delle sinergie positive o negative e quindi si vede che in realtà in molti casi o in alcuni casi la sinergia quindi combinare queste strategie di adattamento porta non solo a ridurre l'effetto negativo ma porta ad avere un effetto sinergico quindi che è maggiore rispetto a delle alle all'effetto singolo più di tutti dicevo appunto per il frumento per il girasole anche per il girasole vedete vi sono diciamo delle sono delle delle pratiche delle pratiche di adattamento sempre anche in questo caso vedete le due pratiche che 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 ricorrono e che poi alla fine sono quelle che più vengono consigliate sono quelle di anticipare la semina e di avere delle culture a ciclo più lungo poi ovviamente si possono anche introdurre per esempio sul 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 su girasole pensare anche a delle cover crop quindi insomma a pensare anche ad altre alternative si vede invece che per il mais effettivamente il mais se lo vedevamo meno impattato perché è irrigato ma in realtà non è che ha degli effetti così positivi dalle strategie di adattamento in ugual misura di quelli che aveva avuto per quanto riguarda appunto girasole e soprattutto frumento la stessa cosa è stata fatta anche per i fabbisogni irrigui eccola e anche per i fabbisogni irrigui vedete che è stata fatta la stessa cosa sono state ipotezzate le stesse sei pratiche di adattamento e anche in questo caso è stato valutato come agiscono da sole come possono agire in modo combinato anche in questo caso l'anticipo della della data di semino ma soprattutto un periodo più lungo di sviluppo è diciamo sicuramente la pratica che risponde meglio e la combinazione anche in questo caso della di più pratiche di adattamento danno ottimi risultati o buoni risultati soprattutto nel frumento e nel girasole diciamo come nell'altro caso meno per per il mais ma per le ragioni che avevamo già già evidenziato l'ul siamo arrivati alla fine quindi io spero di essere rimasto anche abbastanza nei tempi qui vi ho riportato una una valutazione che è una valutazione più qualitativa e quantitativa però questo è il risultato di una serie di studi fatti devo dire anche abbastanza abbastanza recentemente sulla vite a livello sia diciamo regionale ma a livello anche europeo questi risultati vengono da uno studio che è stato condotto un studio della comunità europea condotto in portogallo in una regione del portoscano la regione del durao in portogallo in toscana e poi in 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 lussemburgo ovviamente lungo la mosella quindi in quella in quella regione particolare nelle quali vedete si si sono ipotizzate delle strategie di adattamento ovviamente parlando di una cultura che chiaramente non è una cultura annuale ma di una cultura che rimane 20 30 anni o quello che è si è iniziata a pensare a strategie di adattamento di short term quindi nel breve periodo che danno risultati più nel breve periodo e nel lungo periodo e vedete qui sono riportate ovviamente una serie di indicazioni questa è una valutazione molto valitativa non quantitativa ma dietro ci sono anche risultati ovviamente quantitativi che riguardano ovviamente la gestione della cultura la protezione da dai venti estremi vedete pensare all'irrigazione ovviamente io credo che ormai quando si fa un nuovo vigneto il il pensiero di avere quantomeno la possibilità di irrigare un irrigazione di soccorso sicuramente c'è chiaramente il controllo un miglior controllo delle fitopatie e poi vedete anche la gestione del suolo no con l'inerbimento e quindi con queste pratiche che nel breve periodo potrebbero dare dei risultati validi nel lungo periodo vedete c'è scritto un vineyard reallocation ora è chiaro quando si parla di vineyard reallocation quindi di reallocare i vigneti è una cosa che mette subito però tutti gli studi indicano e comunque già la tendenza c'è che sicuramente le aree più a vocazione che si stanno sempre più materializzando per la produzione di vino sono a quote sempre leggermente più alte ovviamente con la disponibilità di terreni per poter fare questo però questa idea di doversi spostare a delle quote leggermente più alte sicuramente è un elemento importante il fatto chiaramente di utilizzare dei sistemi di allevamento diversi perché chiaramente il sistema di allevamento è un sistema che incide molto poi soprattutto sulla risorsa e l'altro aspetto quello del dell'utilizzo di varietà diverse si sa che qui si entra in un mondo dei disciplinari delle abitudini della produzione del vino del gusto poi di chi consuma vino però evidentemente varietà che chiaramente prima erano varietà che erano adatte ad altri ad altri ad altri areali chiaramente potrebbero diventare adatte anche al nostro areale rispetto a quello che erano in precedenza l'ultima ma che meno male non fa altro che riassumere quello quello che vi ho detto in modo molto semplice anche forse troppo scolastico perché la platea ovviamente non è di studenti ma è evidente che l'elemento del clima è già cambiato ma perché l'ho riportato perché appunto ritornando a quando effettivamente ero qui 1988 quindi ormai sono passati 37 anni quando si parlava di cambiamenti climatici era visto solo come un qualcosa che avrebbe interessato le future generazioni purtroppo ormai le future generazioni ci sono ci siamo anzi le future generazioni sono già nate in un mondo più caldo quindi speriamo che loro almeno dal loro punto di vista abbiano una maggiore capacità di adattamento rispetto a noi quindi il clima è già cambiato fortemente soprattutto nei suoi eventi estremi che sono poi quelli che poi determinano maggiore attenzione continuerà a cambiare ma questo lo sappiamo e nel migliore delle ipotesi ovviamente sappiamo che per avere dei risultati di rallentamenti forti rallentamenti cambiamenti climatici ne potremo parlare forse dopo la metà di questo secolo l'impatto in toscana se lo vediamo tendenzialmente sulle rese si potrebbe dire anche molto sulla sulla qualità però io devo dirvi in un incontro avuto un paio di anni fa con con i maggiori produttori di 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 uva e di vino quindi in toscana io sono rimasto sorpreso quando tutti mi hanno detto guardi professore la qualità è importante cioè l'effetto del cambiamento climatico sulla qualità è importante perché ovviamente noi vendiamo un prodotto che è estremamente qualitativo però non dimentichi che l'effetto sulle rese forse è più importante o altrettanto importante in quanto se io ovviamente ho una riduzione del 20 per cento delle rese di un certo tipo di vitigno che mi produce un certo vino e io posso vendere solamente a quel prezzo se io ne vendo mille bottiglie meno duemila bottiglie meno ovviamente per me incide quindi anche l'aspetto quantitativo che io devo dire ritenevo ovviamente anche ignorantemente meno diciamo importante per un settore come quello della viticoltura invece visto che poi ogni vitigno ogni vino ha un suo diciamo mercato effettivamente riduzioni dei delle rese queste comportano poi riduzioni degli introiti il messaggio positivo che avete visto è che in realtà le strategie di adattamento ci sono quindi si tratta ovviamente di 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 metterle di metterle in campo eh di avere ovviamente il supporto scientifico ma anche il supporto dei decisori politici perché queste misure che avete visto non sono neanche misure particolarmente complesse possano essere messe in campo e che queste queste misure molte volte possono avere anche un'azione sinergica io spero di non avervi annoiato e di essere rimasto più o meno nei tempi grazie grazie mille marco sì nei tempi perfettamente abbiamo pochi relatori incisivi e quindi parleremo grazie per aver evidenziato anche un po' eh gli adattamenti di tipo tattico e di tipo strategico perché forse sono quelli che forse anche più interesseranno poi la nostra agricoltura darei la parola subito a Flavio Barossi che ci parlerà della gestione del rischio eh climatico a livello agronomico e in particolare eh ci porta l'esempio della Reale Padano grazie buongiorno a tutti grazie alla Accademia dei Giorgofili per eh l'invito grazie alla nostra chairman per la presentazione che mi lusinga molto ma eh forse eh mi mi rende più più rende di me un'immagine più importante di quella di un eh agronomo di campo eh perché io di fatto un agronomo di campo sono alla fine quindi eh mi perdonerete se darò un taglio eh molto per certi aspetti molto pratico alla tematica parto tuttavia da una considerazione di carattere più generale eh legata al fatto che eh cambiamenti climatici fanno parte della storia del nostro pianeta e della storia stessa dell'umanità. Nella storia l'uomo è stato spesso soggetto tra virgolette molto tra virgolette passivo dei cambiamenti ehm Emanuele Rua da La Diori che è uno storico studioso della interazioni tra storia eh dell'uomo storia del clima scomparso proprio l'anno scorso eh su questi aspetti sulle sulle interazioni tra eh clima ed eventi storici ha sviluppato delle teorie anche molto interessanti non è questa la sede per eh approfondirla ma se qualcuno fosse interessato potrà sicuramente trovare degli elementi di riflessioni interessanti. Oggi l'uomo per responsabilità da un lato e per merito dall'altro delle tecnologie può esercitare rispetto a queste tematiche anche un ruolo attivo può essere un ruolo negativo appunto nel produrre elementi dalle emissioni ai consumi energetici negativi sul clima e sull'ambiente può essere un ruolo in qualche modo di contrasto di mitigazione di adattamento come è stato detto poc'anni. Eh a livello agronomico la gestione del rischio climatico comporta valutazione scelte tecniche molto complesse che richiedono sempre e comunque una visione sistemica pragmatica razionale non a politica ideologica che investono tanti aspetti l'acqua e l'irrigazione ovviamente nell'areale padano assumono un aspetto una rilevanza particolarmente importante le temperature la gestione del territorio le emissioni che sono un tema davvero delicato i sistemi culturali ho voluto fare anche nel finale due cenni agli eventi calamitosi estremi e al tema della ricerca dell'innovazione che pure mi sembra importante l'areale padano è in qualche modo un unicum forse per certi versi a livello mondiale è una piccola superficie ma è un incredibile processore d'acqua in cui si integra un sistema naturale con un reticolo artificiale vediamo come si è evoluto il reticolo purtroppo la l'immagine di in basso a destra è un po' cosgranata ma quello che vedete scuro è il reticolo di canali di irrigazione e di bonifica non dimentichiamo che irrigazione e bonifica in molti casi vanno di pari passo e rendono questo territorio un processore d'acqua in cui l'acqua viene regimata regolata riutilizzata in in una maniera che davvero credo trovi pochi uguali al mondo ed in cui l'opera dell'uomo e dell'uomo agricoltore ha avuto e deve continuare ad avere un ruolo fondamentale tant'è che si dice ho voluto prendere un il testo di un libro abbastanza recente acque costrette per terre manufatte di cui ecco autore Ettore fanfani che tra l'altro approfitto per salutare perché è stato relatore di alcune nostre iniziative la frase di cattaneo di carlo cattaneo una patria artificiale che rende bene un certo tipo di idea da ultimo vi ho messo una slide che ho rubato dall'ultimo convegno che abbiamo fatto il 3 maggio scorso abbiamo fatto e la sezione nord ovest dell'accademia di gerogofili è stata coorganizzatore dell'evento un convegno agricoltura dagli insegnamenti dal passato alle prospettive prendendo spunto lo abbiamo fatto a casa di alessandro manzoni prendendo spunto dalle opere di alessandro manzoni e di plinio il vecchio di cui tra il 23 e il 24 ricorrono gli anniversari dalla morte di manzoni e di della nascita di plinio il vecchio tra i relatori c'era matteo di tullio giovane storico ma molto brillante dall'università di pavia che ci ha portato questa questo estratto dalle memorie di philip de comines che era un cronachista al seguito di carlo ottavo nella discesa di carlo ottavo in italia a fine 400 1492 se non ricordo male in cui de comines dice con stupore ma qui nel ducato di milano le terre non sono mai a riposo e la cosa colpisce vedo vedo in sala a medio alpi che sorride qualche mese fa a medio alpi è stato coordinatore di un bellissimo convegno sul tema dell'agricoltura rigenerativa presso l'accademia dei lincei e così mi è mi è sorta la la domanda e prendetela ai limiti del del serio del faceto della battuta ma forse visto che l'agricoltura lombarda in genere è tuttora all'avanguardia del mondo forse gli agricoltori lombardi hanno sempre fatto agricoltura rigenerativa senza sapere che lo fosse ma questa ripeto è solo una battuta in realtà tornando a cose molto più più serie più pragmatiche uno degli elementi centrali del sistema irriguo è quel complicatissimo sistema di fontanili e risorgive che consente il riutilizzo l'uso plurimo delle acque se guardate tutta la pianura padana e lo vedete nella nella mappa in basso a sinistra tutta la pianura padana è un un punteggiarsi di fontanili addirittura in alcune aree ci sono doppie o triple fasce di fontanili io vivo in una zona quella della lomellina in cui abbiamo tre fasce di fontanili una fascia alta una fascia media e una fascia della pianura quasi bassa a pochi a pochi chilometri a nord del po e l'alimentazione di questo sistema è essenziale per mantenere il sistema in equilibrio anche in questo il ruolo dell'uomo non è irrilevante come società galleria di lombardia non possiamo essere insensibili a queste tematiche vi abbiamo infatti dedicato più di una iniziativa ho voluto ricordare e trovate anche il riferimento ai ai link degli atti relativi ho voluto in particolare ricordare due convegne che abbiamo realizzato forse con qualche risultato risultato profetico non so fino a quanto voluto irrigazione agricoltura e irrigazione tra storie attualità nel 2017 e poi invasi artificiale agricoltura giornata di studio in memoria di angelo modeo che è stato il forse il più grande costruttore mondiale di dighe ed è stata una gloria italiana di cui ha ricorso proprio nel 21 l'ottantesimo anniversario della scomparsa venendo a qualche dato qui vediamo il l'andamento delle precipitazioni e questo è aggiornato al 2022 e vedete come il 2022 si confermi l'annus horribilis con il 1922 una curiosa coincidenza che siano passati esattamente 100 anni tra i due anni peggiori da un punto di vista precipitativo vedete su un numero di stazioni molto importante soprattutto su quelle del centro nord il dato del 22 è impressionante la situazione è tra virgolette cambiata o sta cambiando in questo negli anni successivi vediamo questi sono dati recentissimi che mi ha fornito l'amico Gabriele Cola che approfitto per ringraziare ci riportano il dato medio ci confermano il 22 come anno orribile sia in termini precipitativi che in termini di contenuto idrico dei suoli all'inizio della primavera non che il 23 ad inizio primavera andasse molto meglio poi lo diceva poc'anzi anche il professor bindi il 23 è stato un anno molto altalenante partito secco sviluppatosi molto molto umido con anche le conseguenze che sappiamo sulle colture dalla vita i cereali in in primavera oggi abbiamo ad oggi abbiamo un contenuto idrico nei suoli molto superiore alla norma mentre venivo in treno osservavo come in certe aree del dell'odigiano non si sia ancora potuto seminare il mais perché i terreni sono inaccessibili ai mezzi il dato proprio del dell'altro giorno sulla priorità media di cinque stazioni con dati secolari ci dà il 2024 ad oggi come il secondo anno più piovoso della storia dopo il 1879 che è stato anno di alluvioni qui vediamo alcuni dati sulla dinamica dalle precipitazioni su una serie storica invece molto più lunga dal 1923 dal 1903 al 2023 divise per nord ovest sopra nord est l'istogramma sotto come vedete i le colonne in rosso quindi quelle della siccità si susseguono quasi con una cadenza regolare quelle delle annate più piovose hanno una distribuzione diversa difficile interpretare un trend da questo dato il trend invece che emerge in maniera pesante e che deve far riflettere è quello della perdita di massa dei ghiacciai perché se mi consentite un ardito paragone di tipo economico è un po' come se ci stessimo mangiando il patrimonio la perdita di un esercizio commerciale può essere tra virgolette sopportata una un'impresa che si mangia il patrimonio è davvero in difficoltà e questo ci deve fare molto riflettere trova confermi il dato nella dinamica delle temperature che sappiamo essere in crescita con tutto quanto ne consegue a livello di bilancio idrico e di evapotraspirarsi cosa fare una visto che abbiamo questo problema la nostra banca i ghiacciai sta sta perdendo una strada potrebbe essere quella di creare strutture di raccolta delle acque piovane il nostro collega accademico vittorio viola di bastide che è presidente di ambi piemonte e vicepresidente nazionale all'ambi osserva che in italia si stocchi poca acqua piovana secondo i suoi dati solo l'undici per cento che è un dato abbastanza preoccupante vi rimando eventualmente a quanto abbiamo discusso in quel convegno suo modello che in qualche modo toccava questi temi però la realtà che emerge è che comunque le tempistiche di realizzazione di invasi bacini non sono tempistiche di breve periodo abbiamo dobbiamo scontrare qualche avversione ideologica magari un qualche bias cognitivo appena si dice la parola diga qualcuno risponde vai onta e tutto si blocca c'è una complessità c'è un costo degli investimenti che a mio modesto avviso inducono un ragionevole pessimismo sarebbe utile necessario pensare alla manutenzione e l'efficientamento degli impianti esistenti alcune dei quali non sono in condizioni eccezionali e in genere non sono recentissime negli ultimi anni soprattutto dopo l'anno sorribile 2022 c'è stata la corsa lo scavo di nuovi pozzi io ritengo che lo scavo dei pozzi rappresenti una traslazione di un problema non una soluzione anzi presenti dei rischi sia per l'abbassamento del livello delle falde che per la qualità dell'acqua di falda perché se il pozzo è fatto male possiamo portare in profondità degli inquinanti altro discorso invece quello della bacinezzazione dei canali quell'enorme rete quell'enorme reticolo idrico in molti casi in alcune circostanze è tutto pieno tutto vuoto utilizzare quei canali come se fossero vicini come se fossero un lago potrebbe consentire uno di ridurre le perdite perché ricaricare il sistema comporta delle perdite e due di tenere le falde elevate ma richiede uno sforzo culturale importante perché molti sistemi rigui della pianura padana sono basati sul concetto del turno della ruota l'acqua c'è a sette dieci 15 giorni di distanza tra un intervento e l'altro qui bisognerebbe entrare in una logica di domanda cioè l'acqua c'è a fa bisogno forse la cosa avrebbe degli effetti positivi anche sull'efficienza dell'irrigazione perché se l'acqua c'è tra tre giorni e tra cinque giorni piove l'acqua o è piovuto quattro giorni fa quell'acqua serve se quell'intervento irriguo rischia di non essere così efficiente come potrebbe essere con un utilizzo domanda ecco torno al concetto dell'efficienza che deve essere efficienza nel trasporto efficienza nei sistemi irrigui efficienza nella gestione agronomica e fisiologica della cultura qui ho solo il dato della lombardia ma mi sembra renda già abbastanza bene l'idea di della distribuzione spaziale di tre diversi sistemi di irrigazione lo scorrimento la spersione la sommersione la sommersione che quella più a destra è subito detto corrisponde sostanzialmente all'area di coltivazione del riso diverso il discorso dello scorrimento che interessa prevalentemente i terreni sciolti o a medio impasto dalla fascia centro occidentale della lombardia la spersione è più diffusa o laddove i terreni sono argillosi vedo la fascia rivierasca a sud del po quindi l'oltre po pavese dove c'è il problema opposto di far grondare poi l'acqua oppure la fascia a sud del gard dove un po' i terreni un po' il ruolo dei terreni un po' la disponibilità di sistemi impressione quindi la possibilità di usare lo scorrimento o l'aspersione con maggiore facilità ecco lo scorrimento ha il grave difetto ha dei pregi perché soprattutto ha il pregio di aiutare a ricaricare quel sistema di falde di risorgive quindi conserva una sua centralità soprattutto nella fascia di pianura medio alta dove alla efficienza relativamente bassa di quel sistema corrisponde un beneficio di conservazione dell'acqua sia a salvaguardia del paesaggio che all'equilibrio complessivo delle zone a valle bisogna assolutamente evitare alcuni errori tipici purtroppo dallo scorrimento come attendere di avere irrigato completamente l'appezzamento fino in fondo gli ultimi 3-4 metri si irrigano per infiltrazione non è necessario arrivare fino alla fine non curare adeguatamente il dimensionamento dei campi sono stati fatti dagli interventi che hanno portato a appezzamenti di dimensioni enormi in certi casi che ovviamente richiedono corpi idrici importanti anche perché l'irrigazione per scorrimento va fatta in tempi rapidi non deve diventare un'irrigazione per sommersione altrimenti il problema diventa l'asfissia radicale appunto livellamento superficiale non sempre perfetto e torniamo al discorso della quantità di acqua in funzione del momento di irrigazione talvolta si tende a irrigare tanto perché così ci portiamo avanti se poi ci sarà la società no si dilava solo dall'azoto migliorare l'efficienza quindi per ridurre le perdite di azoto e l'impatto sull'ambiente ecco qui vediamo alcuni dati sui volumi di adacquamento necessari con lo scorrimento tradizionale con un'infiltrazione laterale con un intervento per espressione con alla piovana tutto questo può contribuire a migliorare l'efficienza nella distribuzione dell'acqua e nella gestione dei nutrienti un cenno particolare va fatto ma ci torno dopo sulla gestione degli effluenti zootecnici attenzione anche alla corretta gestione della conservativa in molti casi lo dicevo poc'anzi si vedono dei terreni dove si è fatta conservativa forse non benissimo e lì il problema è l'opposto il ristagno idrico ci sono zone in sud Milano dove c'è una conducibilità che arriva che oscilla tra i 100 e i 200 mm ora cioè sono terreni dove non dovrebbe esserci il ristagno idrico e poi troviamo queste situazioni vuol dire che il terreno è stato eccessivamente compattato forse bisogna pensare a cantieri di lavoro con pneumatici a bassa pressione bisogna fare attenzione al peso dell'attrezzatura con cui si fa la minima lavorazione ho buttato una provocazione in fondo una ratura molto superficiale i primi 15-20 cm una volta ogni x anni è assolutamente un'eresia o ci possiamo anche fare una riflessione in ogni caso la strada da percorrere è quella della maggiore precisione abbiamo bisogno di fare interventi precisi per farlo abbiamo bisogno di strumenti che ci sopportino e che ci aiutino a fare queste valutazioni e ad assumere delle decisioni corrette questo non riguarda solo l'irrigazione riguarda tutta una serie di scelte dall'epoca di semina alla corretta gestione dei trattamenti di difesa fitosanitaria appunto l'irrigazione la concimazione in tutto questo si sta lavorando credo si stia lavorando anche bene la massa di date da sviluppare è enorme i fattori di variabilità sono notevolissimi io talvolta dico che l'agricoltura di precisione è un po' meno imprecisa di quanto non sia quella a cui siamo abituati arrivare a una precisione assoluta è estremamente difficile perché la quantità di fattori in gioco è enorme questo non significa che non ce la si debba mettere tutta perché questa è visto che parliamo di agricoltura 2030 è la prospettiva non solo per il 2030 ma per oltre che il 2030 ed è una strada non è una scelta è una strada obbligata tutto questo ci pone di fronte a una domanda che nell'areale padano diversi cominciano a porsi uno tra coloro che più si pongono questo tipo di interrogativo è il nostro amico accademico professor Tommaso Maggiore che io dico sempre con giovanile entusiasmo guarda al futuro e appunto ci pone di fronte al quesito sistemi culturali da gestione aziendale a gestione territoriale questo significa ripensare all'organizzazione delle aziende delle strutture produttive significa avere sempre un approccio integrato e multidisciplinare l'agronomo è una figura io dico che è uno dei mestieri belli che esistono perché è una figura che deve compendiare tutta una serie di conoscenze per rendere quella che in natura è una coperta corta perché in natura non ci sono sistemi ottimi noi agronomi dobbiamo cercare di trovare un subottimo che sia un punto di sintesi e di equilibrio tra esigenze diverse contrapposte tra situazioni che in natura sono diverse contrapposte poi ci sono un paio di slide sul riso che forse aiutano a capire questo concetto ecco un aspetto che avevo poc'anzi accennato e sul quale ritorno la gestione degli effluenti zoolotecnici che poi sicuramente il professor Pulino avrà elementi ben più attuali su questo aspetto ma per un areale come quello padano la gestione dell'effluente zoolotecnico è un'opportunità e un problema al tempo stesso la possibilità di integrare la fertilizzazione azotata con l'utilizzo dell'effluente zoolotecnico con i sistemi di irrigazione diventa un'opportunità importante per gestire meglio questi effluenti per distribuirli anche in epoche più consone è ovvio che con il carrobotte dell'equame possiamo entrare solo in determinate fasi del ciclo culturale associando l'irrigazione e la distribuzione dell'effluente zoolotecnico possiamo ampliare il periodo di utilizzo possiamo utilizzare dei quantitativi di azoto minori per singolo intervento e quindi ridurre il rischio delle perdite tanto per dilavamento quanto per volatilizzazione sono entrambi i fattori da tenere in considerazione in tutto questo ruolo essenziale lo dicevo poco anzi dei tecnici e degli agronomi il ruolo essenziale della formazione dei tecnici e degli agronomi perché i tecnici non nascono sotticavoli ma bisogna bisogna crearli bisogna formarli e in questo c'è appunto anche una responsabilità dell'Accademia ecco un cenno velocissimo il 22 aprile quindi un mese fa esatto l'Accademia di Agricoltura di Torino ha organizzato un interessantissimo incontro sulla su queste tematiche ne sono emersi alcuni punti che io trovo estremamente saggi ve li lascio come tema di riflessione due cenni ai problemi normativi e ai relativi rischi uno riguarda la legge sul ripristino della natura approvata pochi mesi fa dal Parlamento Europeo con tra l'altro una spaccatura a distanza netta all'interno del quadro politico io vi ho riportato una posizione ufficiale dell'assessore Beduschi non è una dichiarazione di stampa è la posizione che l'assessore Beduschi ha esposto sul sito della Regione Lombardia io per natura per principio non commento le esternazioni dei politici ve la lascio per dovere di cronaca che è una posizione ufficiale certamente io ho dovuto ho scritto per l'istituto Bruno Leoni a caldo una breve nota su questo tema ribadisco i concetti che avevo esposto in quella breve nota la norma sulla legge sul ripristino della natura è una legge che da un lato ha spaccato il Parlamento Europeo perché è stata approvata a strettissima maggioranza e tra l'altro con una decomposizione e ricomposizione di maggioranze è una legge tra virgolette lasciatemi il termine scritta sull'acqua a cui si possono dare le più varie declinazioni se avrà una declinazione realistica sarà sicuramente un bene perché abbiamo bisogno di un ambiente in equilibrio se sarà declinata in maniera ideologica torniamo a quel concetto di prima acque costrette per terre manufatte patria artificiale ma questo non vale solo per la per la reale padano vale per tutti i fiumi d'Europa eccetera eccetera potrà produrre magari con le migliori intenzioni dei danni peggiori l'altro tema è quello del deflusso ecologico che è un tema tutto nazionale peraltro anch'esso è esposto a rischio di declinazioni diverse perché dall'1 gennaio 25 dovrebbe entrare in vigore il deflusso ecologico la cui applicazione è demandata alle regioni con quanto ne consegue con il rischio di avere 20 o 21 deflusso ecologici diversi o addirittura una situazione io penso da Lomellino al canale Cavour che è un canale che scorre in Piemonte ma ma irrega una parte importante di Lombardia perché nelle nelle origini il canale Cavour doveva derivare e deriva tuttora a regime 110 metri cubi secondo di cui un'ottantina dovevano andare alla Lomellina che oggi che all'epoca era il regno di Sardegna oggi è all'epoca del progetto della realizzazione era già del regno d'Italia oggi a Lombardia amministrativamente cosa succederà qui il tema è davvero delicato la dottoressa Gladys Lucchelli vice direttore di Ambi Lombardia mi ha mandato tre slide che io vi ho messo pari pari in relazione perché mi sembra possono essere utili a una riflessione in cui ricorda i benefici dei metodi tradizionali di scorrimento e sommersione per il sostentamento degli ecosistemi acquatici per la fitodepurazione per l'effetto di laminazione delle piene delle acque meteoriche e persino per una funzione igienico-sanitaria oltre che per la ricarica della falda la rivoluzione dei nitrati e gli utilizzi definisce quali sono i termini del flusso ecologico da un punto di vista legislativo e qual è la sua origine che è la direttiva quadroacque numero 60 del 2000 e come si sta cercando di gestire questo tema in Lombardia se avete visto due slide prima in Piemonte sono molto più preoccupati e ogni regione probabilmente avrà i suoi temi di preoccupazione volevo farvi alcuni casi culturali quello del vigneto lo ha trattato talmente bene il professor Bindi che vi dico solo ci si sta ponendo il problema dei fabbisogni idrici del vigneto anche nell'areale padrano con diversi approcci c'è quello del Veneto col Crea c'è quello del del Piemonte con questa recentissima iniziativa proprio marzo del 2024 c'è il lavoro che ha fatto il professor Gandolfi dell'Università di Milano con la regione Lombardia Trenta Adam ve li ho messi proprio per sottolineare come ci si ponga un problema che peraltro il professor Bindi ha trattato benissimo quindi non ne vado oltre non abbiate vena male in Toscana se anche in Lombardia o in certe aree del nord Italia si pensa se le temperature continuano a crescere si potrebbe anche pensare alla cultura dell'olivo che peraltro nella zona del Garda dell'Iseo ha una tradizione importante qui se ne sta parlando in oltre Popovese questo che vedete è l'oliveto di un nostro socio amico collega in quel di Roccasusella in oltre Popovese ricordiamoci sempre che le gelate sono forse meno frequenti che in passato ma non è che siano un rischio da escludere e quindi su quello quello è un fattore di cui tener conto devo dedicare 5 minuti 5 al caso del riso per ricordare che i suoi fabbisogni idrici da un punto di vista dell'evapotraspirazione non sono molto diversi da quelle altre colture utilizza dell'acqua naturalmente disponibile la semina del riso è un po' in ritardo ma non ha risentito come quella di altre colture della piovosità sopranorma che abbiamo avuto c'è un ampio riutilizzo dell'acqua è un sistema complesso molto particolare ma fondamentale per l'equilibrio idrico della pianura padana negli anni abbiamo avuto una diatriba tra coloro che sono fautori della semina tradizionale in acqua e coloro che propugnano invece la semina fila interrate che su quell'equilibrio effettivamente ha qualche effetto negativo purtroppo a determinare il boom l'esplosione della semina all'asciutto è stata anche la perdita di alcune sostanze di alcuni prodotti fitosanitari ad azione residuale che sono essenziali per dare copertura alla coltura nelle prime fasi del ciclo fondamentale la gestione dell'acqua per i suoi effetti sulle emissioni e sui metalli pesanti questo è il lavoro che è stato fatto dalla Dipartimento di Scienza Agraria e Ambientale in collaborazione con l'enterisi sulla cosiddetta tecnica AWD alternate weight and dry cioè l'alternanza di periodi di sommersione e di periodi di asciutta programmata più o meno hard o soft i dati ci indicano che effettivamente con questo tipo di sistema si può avere un leggero risparmio idrico senza avere effetti negativi sulle produzioni l'altro aspetto importante del progetto Isvragest è stato quello della gestione dei metalli pesanti che è molto influenzata dalla gestione idrica ecco i casi in cui abbiamo la coperta corta il riso assorbe il cadmio se è coltivato in asciutta ma assorbe l'arsenico se è coltivato in presenza di sommersione quindi sembra che le due cose siano inconciliabili per nostra fortuna i due picchi di assorbimento sono sfasati nel tempo per cui con una asciutta inlevata e una sommersione prolungata si riesce a incompensare questi due aspetti vi ho detto del progetto Isvragest che si è appena concluso oggi è in corso un progetto che si intitola Risosost percorsi agronomici innovativi per una risicoltura sostenibile finanziato PSR dalla Lombardia e che cerca di indagare quegli aspetti che vedete in basso a destra in particolare appunto gli aspetti legati alla gestione della semina alla riduzione dell'emissione di metano che sono un problema importante soprattutto in cultura sommersa ma in cultura sutta c'è il problema dell'emissione di protossido d'azoto quindi dobbiamo trovare anche lì un punto di equilibrio la ricerca è in corso mi avvio a concludere ricordando alcuni aspetti importanti la gestione del territorio e la manutenzione degli alvei questa è l'immagine si parlava prima del canale Cavour del danno che il canale Cavour ha subito in occasione di un evento precipitativo peraltro importante ma non così eccezionale che c'è stato all'inizio di ottobre del 2020 e le immagini spiegano molto bene perché quella pila ha ceduto non tanto per l'eccezionalità del cambiamento climatico quanto per la pessima gestione del territorio non attribuiamo al cambiamento climatico eventi che dipendono essenzialmente da negligenza incuria e insipienza dell'uomo tra l'altro qui siamo stati molto fortunati perché il fattaccio è accaduto al 2 di ottobre fosse accaduto quindi la stagione rigua conclusa e con un inverno davanti per fare la recuperazione fosse accaduto il 2 di giugno perdevamo completamente tutti i raccolti sull'area sottesa perché lì l'acqua non poteva più passare questo è il il ponte canale con cui il canale sovrapassa il torrente cervo tanto per capirci avevamo scritto tra l'altro un articolo sul tema con l'accademico Giuseppe Sarasso sempre più frequenti eventi calamitosi quella che vedete è l'immagine del downburst del 7 luglio 2021 con alcune degli effetti che ha avuto non parliamo di quello che è successo non ho immagine della notte sul 25 luglio 2023 però ecco anche su questo punto dobbiamo fare delle riflessioni potrebbe essere tema di un altro incontro sulla gestione del rischio che non è un fatto da poco miglioramento genetico essenziale per l'adattamento alla gestione alla crisi climatica essenzialmente per due ragioni da un lato la resistenza agli stress abiotici avere piante più resistenti alla siccità o più resistenti all'eccesso idrico perché potremmo avere anche questo tipo di situazione e la resistenza alle malattie si faceva poco anzi cenno a cosa è stata lo scorso anno la peronospora ma cos'è cosa è stato per il centro sud cosa sono state per il centro sud nel 23 e per il centro nord nel 24 le malattie sui cereali e da questo punto di vista le nuove biotecnologie possono essere una soluzione a cui dobbiamo credo guardare con interesse ricordo che a proposito di vigneto il gruppo di lavoro sulla viticoltura dell'accademia dei girogofili giusto un anno fa ha emesso un documento che mi sembra molto importante chiudo ricordando che l'agricoltura oltre alle sue responsabilità che sicuramente sono importanti ha un ruolo essenziale l'unica attività umana in grado di produrre risorse rinnovabili a partire da un processo straordinario che è la fotosintesi colorofiliana che ci consente di convertire l'anidride carbonica in molecola organica da cui tutta la nostra esistenza dipende quindi abbiamo il dovere di mirare a massimizzare l'efficienza del processo produttivo riducendone al contempo gli inevitabili impatti ho voluto usare il termine elogio del cloroplasto perché l'anno scorso io sono rimasto letteralmente estasiato dalla bellissima prelusione che Amedeo Alpi ha fatto in apertura dell'anno accademico dei girogofili e mi piaceva ricordare questa espressione ecco attenzione i dati ci dicono i sistemi a bassa produttività sono spesso da questo punto di vista meno sostenibili vediamo che laddove utilizziamo dei sistemi a bassa produttività noi non ne emettiamo tanto meno rispetto a quelli intensivi ma assorbiamo molto meno e anche di questo credo si dovrebbe tenere conto concludo l'attività agricola può avere un ruolo importante nella mitigazione della crisi climatica ma può essere neanche fortemente condizionata conoscenza dei dati della storia del territorio sono elementi imprescindibili per assumere decisioni razionali corrette fondamentale migliorare l'efficienza razionalità dei processi produttivi fondamentale ruolo della ricerca scientifica dell'innovazione tecnologica della sperimentazione della formazione dei tecnici e degli operatori per avere quella intensificazione sostenibile che migliori le conoscenze e l'efficienza dei processi scelte politiche di indirizzi normativi improntati ad un malinteso ambientalismo possono aggravare i problemi della crisi climatica anziché contribuire a risolverli ho usato malinteso ambientalismo perché è il termine che ha coniato proprio in una relazione per l'Accademia dei Giorgofili Dario Casati cito la conclusione del suo ultimo articolo su Giorgofili.info l'esperienza dell'emergenza degli ultimi anni indica la necessità di pensare e attuare un'ampia strategia di valorizzazione della produttività dell'agricoltura e non il suo deprotenziamento con queste parole dell'amico maestro Dario Casati ringrazio anche tutti coloro che mi hanno dato un supporto un contributo un consiglio e ringrazio tutti voi per l'attenzione buona giornata credo di essere stato perfettamente nei tempi grazie mille grazie per la concretezza l'analisi della situazione dello Stato l'approccio prospettico che sono sempre molto importanti a proposito del cloroplasto volevo ricordare che è stato prodotto dai Giorgofili proprio da pochi mesi ed è disponibile online un documento sulla carbonio in agricoltura in cui si fa il punto si cerca di fare il punto sui diversi comparti agricoli e sulla loro diciamo capacità di agire come anche come sorgente oltre anche come posto chiamiamolo quindi il sink di carbonio oltre che di sorgente quindi uscire un po' diciamo definizione un po' più colpevolizzante penso che potremmo a questo punto collegarci molto bene alla relazione che ci può fare professor Pulina che ci parlerà di nuove metriche l'importanza delle loro valutazioni per valutare gli impatti quantificare gli impatti dei gas ad effetto serp grazie grazie presidente grazie per l'invito la mia relazione è un po' eccentrica rispetto alle due dei colleghi che mi hanno preceduto perché vado verso i fondamentali cioè rimetto in discussione quello che è diciamo un assunto di fatto acquisito universalmente che le metriche dell'IPCC non debbano essere messe in discussione metriche per la valutazione della capacità clima alterante del potenziale clima alterante dei cosiddetti gas ad effetto serra cosa vi presenterò in questo spazio che mi è stato riservato innanzitutto parlerò di impatti clima alteranti e quanto pesa l'allevamento animale secondo le metriche utilizzate i cosiddetti standard IPCC sono corrette che cosa rivelano le nuove metriche se le applichiamo alla zootecnia italiana ma un caso analogo potrebbe essere quello del riso perché parliamo di metano in particolare infine le nuove metriche applicate agli scenari al 2050 e infine qualche consiglio per gli acquisti allora iniziamo subito quanto conta l'allevamento negli impatti clima alteranti diciamo subito che è ovvio iniziare con il minimo sindacale l'aumento delle emissioni di gas climalteranti ha generato un aumento della temperatura media che dal 1850 preso come punto di riferimento ad oggi è valutata mediamente nel globo anche questo è diciamo una media trilussiana intendiamoci a 1,2 gradi centigradi e la cosa rilevante come già detto dai due relatori che mi hanno preceduto è l'aumento degli eventi estremi che sta diventando diciamo un aspetto assolutamente preoccupante questo è il quadro da cui partiamo perché però è necessario agire subito perché abbiamo l'impellenza dell'agire questo è un paper apparso recentemente l'anno scorso in cui si vede come l'emissione costante di 40 gigatonnellate di CO2 per 70 anni e poi un net zero improvviso in realtà comporti un aumento delle temperature e una stabilizzazione delle temperature per cui se anche se andassimo oggi al net zero cioè se da oggi smettessimo di emettere gas clima alteranti in particolare CO2 oltre che tutti gli altri gas che hanno un effetto moltiplicativo nel riscaldamento decisamente superiore a quelli emessi dal sistema agricolo bene noi rimarremo lì rimarremo lì almeno per qualche centinaia di anni per cui gli aspetti legati agli adattamenti sono fondamentali oltre che quelli legati alla mitigazione e questo è il dato dello scenario centrale che è stato elaborato dall'ultimo round della COP28 in cui si vede che se al 2056 le emissioni andassero a zero le emissioni nette cioè emissioni e sequestro di carbonio le temperature come vedete continuerebbero a viaggiare serenamente intorno ai più 2 più 2,5 gradi rispetto al 1950 per cui il fatto chiaro è dobbiamo intervenire immediatamente con la riduzione e se possibile anche la cessazione delle emissioni di gas climalteranti quanto conta il settore agricolo a livello mondiale l'agricoltura conta il 18,4% delle emissioni complessive compreso anche il cambiamento dell'uso o del suolo che di suo vale parecchio e live stock cioè l'allevamento direttamente conta il 6% delle emissioni globali sfortunatamente all'interno dell'agricoltura la maggior quota di emissioni è dovuta all'allevamento e in particolare all'emissione di metano per le fermentazioni enteriche dei ruminanti per la gran quota e in parte anche per il trattamento dei reflui la parte anerobia appunto del trattamento dei reflui che genera ulteriore metano che come sappiamo è un gas ad effetto serrigeno che ha un valore standard di 28 volte quello della CO2 in Italia ultimo dato ispere è uscito l'altro giorno l'ultimo report ci dice che l'agricoltura con valori standard pesa il 7,4% delle emissioni complessive di cui 1,6% le coltivazioni 5,8% la zootecnia la carne tutta luminanti e monogastrici rappresenta il 3,7% delle emissioni globali sinceramente se non andassimo diciamo a comprare il giornale su un aggeggio che pesa una tonnellata e consuma diciamo combustibili fossili andassimo a piedi probabilmente avremmo un impatto maggiore che smettere di mangiare carne in questo paese ma tant'è le metriche che utilizziamo lo standard IPCC sono note ricordo la più classica quella per cui un chilo di metano emesso ha un valore di 28 volte la CO2 ha diciamo un fattore moltiplicativo di 28 volte la CO2 ricordo protossido d'azoto l'altro gas importante per l'agricoltura 267 secondo l'ultimo IPCC gli altri gas non sono considerati neanche la CO2 in realtà se non nel cambiamento di uso del suolo negli standard ma questi gas hanno in atmosfera un comportamento completamente diverso infatti si distinguono i gas che hanno una lunga permanenza in atmosfera come la CO2 se questo è un puntatore non è un puntatore vedete la CO2 ha una emivita di circa 40 anni ma poi flatta cioè resta lì quello che diciamo abbiamo dopo la prima discesa dopo la prima dinamica di rarefazione resta lì per centinaia e centinaia di anni al contrario invece il metano ha un'emivita media di 10 anni dai 9 ai 12 anni perché viene rimosso dagli ossidrilli che sono presenti in atmosfera viene ossidato e praticamente dopo 50 anni è completamente scomparso per cui considerare un'equivalenza in termini di CO2 di un gas a breve permanenza in in atmosfera non è corretto e vediamo che cosa comporta a questo fatto se io ho un aumento parallelo della concentrazione della CO2 e del metano il potenziale di riscaldamento della CO2 come vedete aumenta esponenzialmente mentre quello del metano aumenta linearmente nel caso in cui invece avessi una emissione costante nel tempo dei due gas l'anidride carbonica continua a generare aumenti della diciamo del riscaldamento in atmosfera mentre il metano flatta se io avessi la condizione di net zero cioè tutti e due i gas crollano e nello stesso momento diciamo arrivano alla net zero emissione zero la CO2 continua a riscaldare l'atmosfera mentre il metano porta il suo contributo a zero allora questi diciamo sono dei grafici teorici questi sono i modelli applicati da questo studio ai tre gas a sinistra vediamo l'anidride carbonica al centro vediamo il metano a destra il protossido di azoto questo è il il radiative forcing dovuto a un impulso unitario iniziale dei tre gas vedete il comportamento in atmosfera e l'impulso sulla temperatura come si comportano in maniera totalmente diversa sinistra nitride carbonica centro metano destra protossido di azoto se invece abbiamo un flusso continuo che sono i grafici di sotto il comportamento della temperatura e della del radiative forcing è completamente diverso tutti i gas evidentemente in atmosfera mantengono una memoria in termini di temperatura ma vedete come il metano nel momento in cui il radiative forcing flatta genera aumenti di temperatura estremamente limitati rispetto agli altri due gas questi sono gas che si comportano in modo completamente diverso per cui utilizzare un'equivalenza in co2 equivalente per il metano non è esattamente corretto ed è quello che ci hanno detto un gruppo di fisici che è iniziato a pubblicare nel 2005 poi ha pubblicato tantissimo quindi sono alcuni dei lavori che abbiamo preso in considerazione all'interno di un programma di ricerca Oxford Climate Change Research e ha portato a riformulare le equazioni fondamentali che vengono utilizzate per i gas a breve vita questa è l'equazione IPCC 1990 molto chiara che ci dice che il valore di emissione in CO2 equivalenti di un determinato gas in un orizzonte temporale 100 anni normalmente prende in considerazione l'IPCC però lo standard è stato fissato ai 100 anni è uguale la quantità di gas emesso per un valore moltiplicativo che vi ho detto è che il global warming potential che per il metano vale 28 267 per il protosido d'azoto e uno per la CO2 ecco il gruppo di Allen ha generato un insieme di equazioni che invece invece di tenere conto dell'emissione puntuale cioè dell'impulso emissivo di un gas in realtà tiene conto della differenza delle emissioni in un arco temporale normalmente 20 o 30 anni vediamo sono questo l'arco temporale e ci dice che nei gas a corta vita in atmosfera il fatto che vi sia un differenziale di emissione non è indifferente rispetto al loro potere termigeno in atmosfera la prima equazione quella dell'IPCC viene perciò fatta evolvere tenendo conto della differenziale di emissione fra due punti precisi della di quello che è la traiettoria emissiva di un gas nel 2019 c'è stata un'ulteriore evoluzione perché si è tenuto conto che esiste una quota anche di stock anche nei gas a corta vita che è il parametro S oltre che invece il rate che è la R che invece pesa quello che è il valore di flusso del gas perciò il gas è stato il gas a corta vita sono state divise in una quota di flusso e in una quota di stock in equazioni che poi sono state ultimamente nel 2021 riaggiustate e questa diciamo riparametrizzate come vedete questa è l'equazione che attualmente viene utilizzata in questo tipo di studi queste equazioni sono interessanti perché vediamo un po' la differenza che c'è in termini di CO2 equivalente che è stata trasformata in CO2 warming equivalente che vuol dire non CO2 equivalente come chili CO2 equivalente come potenziale di riscaldamento ecco questo diciamo il passaggio che è stato fatto con le vecchie metriche diciamo un impulso di una tonnellata di metano emesso dal primo anno e con modifiche annuali che vanno da più 0 05 1 1 e mezzo 2 a meno fino a meno 2% questo diciamo è il valore di impulsi successivi negli anni mi porta a dire che la quantità accumulata di CO2 equivalente con le vecchie metriche in realtà non si scosta molto vedete è quella linea blu cioè aumentare o ridurre le emissioni in realtà sotto il profilo accumulativo della CO2 non cambia molto lo scenario della contabilità climatica ma se uso le nuove metriche succede una cosa molto interessante se riduco le emissioni da una tonnellata tendo a ridurle come vedete i valori tendono a scostarsi da quello che è lo standard IPCC e addirittura diventare negativi quando? quando la riduzione è dello meno 0,33% all'anno cioè se il metano si riduce di meno 0,33% all'anno da un impulso di una tonnellata una tonnellata per 99,7% eccetera eccetera allora il metano diventa indifferente rispetto al riscaldamento ma se il metano aumenta più dell'1% in realtà 1,007% allora il suo valore si moltiplica di più del 28 che è utilizzato dagli standard IPCC addirittura come vedete se aumenta oltre il 2% il suo apporto al riscaldamento globale diventa estremamente alto molto 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 importante ecco facciamo un piccolo esempio anche il didattico scusatemi in Accademia però vedere i conti è sempre interessante applicare le nuove metriche le vecchie metriche ad esempio ad un allevamento che aumenta il numero di vacche passando da 100 a 110 vacche e aumenta le emissioni da 10.000 kg al tempo T1 a 11.000 kg al tempo T2 e confrontandolo con un allevatore che invece riduce il numero di vacche da 110 a 100 e passa da 11.000 a 10.000 kg di CH4 se valutato con le vecchie metriche in tempo di 10 anni mettiamo facciamo tutti i conticini qua qua così e utilizziamo le metriche standard vediamo che questi due allevatori hanno emesso esattamente la stessa quantità di CO2 equivalente nei 10 anni se invece applichiamo le nuove metriche qui abbiamo fatto tutti i conticini il primo ha emesso una quantità di CO2 equivalente warming equivalent abbastanza vicina al dato che ci è risultato con lo standard dei PCC ma il secondo invece va in negativo questa è la grandissima differenza fra le due metriche è che il primo ha concentrato il metano dell'atomosfera e il secondo lo ha rarefatto e la rarefazione del gas che è possibile perché se io riduco le emissioni ma questo gas continua ad essere diciamo ossidato in atmosfera dagli ossidrilli questo mi crea una rarefazione del gas perciò mi crea un effetto di raffreddamento e questo è stato anche diciamo preso in considerazione dal IPCC che nell'ultimo report del 21 inizia a considerare nuove metriche ma soprattutto dalla FAO la FAO ci dice che questa nuova metrica è molto utile sia per le fermentazioni enteriche che per le emissioni di metano dei reflux ma è utile anche per il riso cioè il risicoltore che riduce le emissioni di metano in realtà non sta impattando addirittura se le riduce in maniera importante sta aiutando il sistema a ridurre la diciamo il riscaldamento atmosferico infatti la FAO in questo report che è stato pubblicato fine anno scorso ha elaborato delle sue proprie equazioni che sono quelle che iniziano ad essere utilizzate in doppio standard in cui si consiglia di utilizzare doppio standard sono usciti proprio per l'altro giorno l'ultima revisione delle norme ISO la 14068 che consiglia di utilizzare gli standard più attuali e noi iniziamo a consigliare a tutti quando fate scenari iniziate a utilizzare i due standard scenari che sono fortemente caldeggiati dalla comunità dei fisici dell'atmosfera che ci dicono proprio questo che il Global Warming Potential Star che è il nuovo la nuova metrica e ci dà una copertura temporale molto maggiore sul cambiamento delle temperature per differenti gas cioè ci stanno chiedendo apertamente la comunità dei fisici dell'atmosfera di utilizzare anche le nuove metriche per poi passare alle nuove metriche perché bastonano chi non è virtuoso ma premiano chi è virtuoso almeno per questo tipo di gas allora sono iniziati ad uscire un po' di lavori su questo questi sono i primi lavori questo in basso a destra è uno che abbiamo fatto noi che vi mostrerò più in dettaglio questo è un bel lavoro che è uscito dal gruppo Dimitlone e riguarda diciamo l'applicazione delle nuove metriche alle emissioni di metano del sistema degli Stati Uniti come vedete il cumulative impact partire dal 980 al 2018 la linea di sopra è quella che ci dice che cosa è in contabilità ambientale negli Stati Uniti nelle emissioni di metano calcolate con le metriche IPCC quella lineetta invece di sotto che va sotto lo zero invece sono le stesse quantità di emissioni che però sono state ricalcolate in termini di CO2 warming equivalent utilizzando le nuove metriche sono sotto zero questo è diciamo la convergenza al net zero del sistema del diciamo Dairy Industri negli Stati Uniti che con le nuove metriche loro pensano possa andare alla neutralità addirittura diventare sotto profilo carbonico SYNC dopo il 2040 altri lavori sono usciti successivamente ve li ho riportati qui per cui è un tema che nella nostra diciamo nella nostra disciplina sta iniziando ad essere un tema strutturato e noi abbiamo fatto l'esercizio anche per l'Italia questo è il peppa pubblicato sembra l'anno scorso l'inizio dell'anno scorso abbiamo preso la serie storica di tutte le emissioni di metano dal 1990 al 2020 abbiamo rilevato un meno 14% nelle emissioni abbiamo bloccato la data del 2010 per avere i 20 anni prima per poter fare poi questo differenziale perché ci serve per applicare le equazioni fare il differenziale abbiamo valutato quello che è avvenuto dal 2010 al 2020 fatto i conti e abbiamo trovato che con le vecchie metriche le emissioni annuali erano quello che vedete lì sopra quella blu con le nuove metriche le emissioni sono sotto zero pertanto nel bilancio abbiamo un aumento cumulativo di emissioni con le vecchie metriche mentre una riduzione sotto zero con le nuove metriche se ci appicchiamo anche il protossido di azoto che è comunque un gas come avete visto ha vita lunga alle emissioni complessive utilizzare le metriche IPCC nel decennio che abbiamo preso anzi un decennio per essere precisi che abbiamo preso in considerazione significa addossare alla azotemia 206 milioni di tonnellate di CO2 equivalente applicare le equazioni di Keynes e altri invece ci porta a meno 48 49 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti cioè 18,7 milioni in più all'anno con le vecchie metriche meno 4 milioni di tonnellate di CO2 equivalente all'anno questo lo si sa benissimo infatti la COP28 ha puntato moltissimo sull'abbattimento del metano perché l'abbattimento del metano politicamente è l'unico modo che è ragionevole che abbiamo oggi per raggiungere gli accordi di Parigi perché se noi riduciamo molto il metano raffreddiamo l'atomosfera e possiamo controbilanciare invece la grande difficoltà che abbiamo a ridurre le emissioni di CO2 fossile questa è la realtà perciò ridurre le emissioni fuggitive di metano dai metanodotti ridurre le emissioni di metano dalle miniere che è un altro degli argomenti miniere dismesse che hanno enorme quantità di metano che vengono messe e anche ridurre il metano prodotto dalla azotecnia è la via più semplice per raggiungere gli accordi di Parigi esiste anche un'altra metrica che è importante e ne tiene conto anche la norma ISO 14068 e anche la 67 che riguarda la carbon footprint ed è la metrica della global temperature potential che invece del D28 utilizza un parametro 4 per il metano come vedete da questo studio e tanti studi ad esempio la carbon footprint del lato italiano passa da 1,29 a 0,57 perciò basta anche posizionarsi su una metrica intermedia che anche i valori assoluti della carbon footprint tendono a cambiare totalmente l'ultima cosa che vi faccio vedere sono a mezz'ora cioè a 5 minuti se non sbaglio è come che cosa succede se applichiamo le nuove metriche agli scenari sia della FAO che a uno scenario net zero la FAO all'inizio di quest'anno a febbraio ha pubblicato questo interessantissimo studio pathway towards lower emissions in cui ci dice che se continuiamo a comportarci come ci stiamo comportando si chiama BAU business as usual dalla situazione di emissioni questo è tutto l'allevamento mondiale e la prima barra a sinistra noi avremo un aumento delle emissioni perché c'è un forte aumento di richiesta di prodotti di origine animale 25% circa valutato dalla FAO per cui arriveremo al 2050 quella terza barra che vedete dopodiché la FAO iniziate a dire bene se però noi mettiamo in essere una serie di azioni di mitigazione e lì le elenca tutte aumento della produttività genetica manipolazione del rumine additivi stato di salute degli animali eccetera eccetera lì lì elenca tutti con la potenzialità di riduzione potremmo arrivare al 2050 a quella quantità di emissioni l'ultima a destra che vedete cioè quella è tutta la potenzialità di mitigazione in essere con le tecnologie attualmente disponibili o ragionevolmente prevedibili noi abbiamo preso questi scenari che vedete senza la CO2 perché la CO2 deriva molto dal land use change land use and forestry perciò tutti i cambiamenti dell'uso del suolo abbiamo visto che cosa succede se applichiamo le due metriche diverse ecco abbiamo a sinistra e in alto lo scenario BAU cioè business as usual se noi diciamo lavoriamo sotto quel tipo di scenario utilizzare le due metriche è assolutamente indifferente vanno tutte e due a finire ad una variazione di temperatura quella è la variazione di temperatura media mondiale che è generata dall'allevamento animale da solo siamo a 0 125 gradi centigradi è una botta non da poco però indifferente usano le due perché perché aumenta la quantità di metano che viene messa sostanzialmente questo è il motivo per cui le due metriche lavorano una indifferentemente dall'altra ma se invece andiamo allo scenario riduzione noi avremo vedete che si scostano le due curve quella della dello standard che sta sopra e l'altra invece dei nuovi standard che va sotto 0 per cui raggiungeremo un net 0 intorno al 2030 per poi scendere e recuperare temperatura mentre con diciamo anche nello scenario riduzione con le vecchie metriche comunque la temperatura continua a aumentare continuerebbe ad aumentare o si simula che aumenti con le nuove metriche in realtà raggiungeremo un massimo intorno al 0 0 50 gradi centigrari per poi scendere a 0 questi sono scenari net 0 sono due scenari nostri che abbiamo messo in campo e si vede subito che se al 2030 noi iniziamo a far scendere le emissioni per portarle a 0 al 2050 cioè il net 0 al 2050 noi avremo comunque con le vecchie metriche un aumento di temperatura che abbiamo sotto ma con le nuove metriche raggiungere il net 0 è possibile quasi subito e questi sono gli scenari di compensazione cioè quante gigatonnellate di CO2 equivalente occorre sequestrare e diciamo mettere all'interno porre all'interno dei sink dei giacimenti dei pozzi di carbonio si chiamano così oggi dei pozzi di carbonio per compensare le emissioni come vediamo nello scenario mitigazione noi dovremmo ridurre in maniera interessante ciò che attribuiamo all'allevamento in termini di sequestro cioè l'allevamento in realtà può diventare un elemento importante di carbon sink e di emissioni di crediti di carbonio perché ricordo che carbon sink è anche la mitigazione cioè la riduzione delle emissioni è considerato ufficialmente carbon sink allora queste vacche fanno il bagno sul lato piano di Asiago per essere chiare fotografate da me le ho trovate particolarmente interessanti nella loro capacità di termoregolare la temperatura c'è un caldo bestiale il giorno allora gli impatti climalteranti quanto conta l'allevamento animale l'allevamento animale conta poco anche con le metriche tradizionali le metriche utilizzate sono corrette non per la valutazione delle emissioni di metano cosa rivelano le nuove metriche applicate alla zootecnia è un settore virtuoso che ha ridotto le emissioni e ha aiutato il paese nella lotta ai cambiamenti climatici scenari futuri il net zero è più vicino di quanto correntemente ci raccontiamo questo è il mio gruppo di lavoro che mi dà sempre una grande mano a fare tutti questi conti che non sono esattamente facili perché si tratta di modelli piuttosto complessi e su cui anche stiamo un po' litigando con altri gruppi disciplinari non di agraria cioè soprattutto fisici e fisici dell'atmosfera proprio sul valore dei parametri e sulla stabilità di questi di questi modelli tuttavia cerchiamo di fare la nostra parte e quel libro che abbiamo prodotto come carni sostenibili sulla sostenibilità ne si trovano anche queste cose dette un po' diciamo in maniera divulgativa e vi ringrazio molto per l'attenzione grazie mille professor Pulina beh sì le questioni sono complesse però il messaggio direi che è arrivato chiaro e forte ed è un messaggio anche diciamo ottimistico e positivo per il futuro anche collegato proprio al fatto che si possono creare scenari quindi si possono anche individuare strategie si possono individuare veramente le potenzialità di agire in maniera così positiva rispetto al clima io volevo chiedere se c'è qualcuno in sala che ha qualche domanda da fare perché non abbiamo avuto momenti ne abbiamo due persone Teo tu sei un fisico dell'atmosfera quindi sei stato chiamato in causa forse una volta finito perdonami perché io io mi ero segnato tre domande per ogni puoi farle abbiamo dieci minuti abbiamo il professor Alpi che vuole parlare ma ce la dovremo fare si vai quasi più un come sarò rapidissimo la prima per Marco che ringrazio per aver ricordato i tempi eroici di RISE e se nelle analisi che avete fatto avete per caso tenuto in conto per specie produttive appollinazione entomofile come quello che è il cambio della fenologia non si possa andare a scontrare con quello che poi è il cambio del ciclo vitale delle eventuali insetti entomofili procedo con le tre domande in fila Fabio quelle cose che hai detto le avevo riportate guarda in Palazzo Chigi una parte di quei dati peraltro ho riportato anche un grafico del nostro amico comune Luigi Mariani che è anche accademico e dietro lì però c'è una cosa che mi ha molto sorpreso di quello che è presentato d'accordo su tutta la questione delle infrastrutture che servono sia per la siccità ma contemporaneamente le stesse infrastrutture possono servire anche quando abbiamo i periodi contrari la questione dell'acqua a scorrimento dell'errigazione a scorrimento la questione dell'errigazione a scorrimento io ho sempre trovato un impatto quasi di tipo ideologico in quel tipo di verso quel tipo di irrigazione ovvero si butta via dell'acqua meccanismi di questo tipo invece hai fatto vedere tutta una serie di vantaggi eccetera quindi si riesce a cambiare questo approccio quel approccio idrologico io lo vedo anche con la diga di Eridracoli quando eccede è costretta a sversare ecco è acqua che non è che vada persa e poi l'ultima domanda quasi più un commento la comunità dei fisici dell'atmosfera vi ha richiesto io faccio parte della comunità dei fisici dell'atmosfera devo essere sincero che sarò ignorante io pur avendo letto il sesto rapporto del PCC aver visto quello forse la nostra attenzione è stata particolarmente catturata dalla questione del cambiamento dei mitigated pathways che siamo passati anche lì da una metrica a una nuova metrica peraltro una nuova metrica dove dentro ci porta anche lo sviluppo economico e tutta un'altra serie indici di deprivazione quelle cose viste mi hanno non le avevo colte in maniera così profonda da vedere che addirittura non solo ci si trova in una situazione drammatica dal punto di vista della produzione zeotecnica come emissioni ma che addirittura operando alcuni tipi di scelte abbiamo dei risultati al 2050 quando nella comunità dei fisici dell'atmosfera una delle ipotesi che circola maggiormente è che tanto se ne riparlerà fra 100-200 anni invece lì anche se limitato ovviamente a quel tipo di settore e se possono vedere i risultati già da subito grazie scusate se avete qualche io ti dico in quegli studi no però ora stiamo facendo degli studi proprio per cercare di legare questi due aspetti e quindi per legare questo shift della fenologia e per capire questo che cosa può comportare chiaramente in termini di non adeguamento ovviamente degli impollino a favori che possono avere effetti diversi perché la loro risposta è diversa a questo ti posso dire che lo stiamo facendo abbiamo un progetto finanziato dalla cassa di risparmio di Pistoia nel quale cercamo proprio di fare questa valutazione quindi di avere tutte e due le dinamiche perché ora la dinamica è molto orientata alla pianta è meno orientata anche perché ovviamente la nostra esperienza è minore però vogliamo fare appunto anche noi vedere questo per capire se effettivamente a tutto quello che si dice si aggiunge anche anche questo grazie Marco non so Flavio se hai una risposta per faccio una innanzitutto ringrazio per l'apprezzamento e per aver colto quell'aspetto cerchiamo di avere una visione complessiva delle cose della complessità delle cose nello specifico do una risposta su un sistema ancora più estremistico che è quello della sommersione per dire come l'acqua in agricoltura non è consumata è immagazzinata la polemica in corso talvolta aspra e io non entro nella polemica tra fautore della semina del riso in asciutta e tradizionale semina in acqua dati sul livello della falda con il sistema quando il 99% del riso si seminava in acqua quindi in sommersione la falda toccava il suo massimo a fine maggio inizio giugno con il diffondersi della semina a file interrate e successiva sommersione il livello massimo della falda si raggiunge a fine luglio credo credo che già questo dia una risposta ripeto tutti i sistemi hanno pregi e difetti vanno gestiti est modus in a repos è una considerazione sempre valida è giusta non so Giuseppe se tu hai qualcosa da dire da aggiungere alla tua relazione dunque grazie noi siamo assolutamente rispettosi delle comunità scientifiche altrui e prendiamo quello che ci dicono abbiamo esplorato la letteratura non solo noi anche la FAO che ha assunto questa modalità di valutazione del global volume potential nuova come un aspetto estremamente interessante e raccomanda l'uso della doppia valutazione l'IPCC continua a generare i suoi standard sappiamo anche molto bene tutti noi che le metriche non sono un fatto tecnico ma sono un fatto tecnico e politico a partire dal metro che è stata la metrica che ha generato è stata evidentemente una questione rivoluzionaria nel senso della rivoluzione francese per cui tutte le metriche a un certo punto devono piano piano soprattutto se hanno implicazioni di natura politica di grandissima rilevanza piano piano devono diciamo fare una convergenza che a volte richiede molti anni il metro di oggi sappiamo che non è la sbarra di cose depositata a Parigi sappiamo che ha avuto un'evoluzione straordinaria e anche le metriche che utilizziamo nella diciamo nella valutazione tutti noi perché noi le usiamo correntemente sono in fase di evoluzione tuttavia avere diciamo a casa un metodo che per i gas a breve vita valuta in maniera diversa e ci mette nelle condizioni di fare dei ragionamenti diversi ma soprattutto castiga molto chi aumenta le emissioni questo è l'aspetto che non è colto da le nuove metriche bastona molto di più perché l'IPCC a 100 anni sul metano è estremamente direi benevola mentre sappiamo perfettamente che è un gas che ai 20 anni ha 80 di valore e non lo usiamo quel dato lì io credo che modus in regus mettere assieme le due metriche e iniziare a ragionare chiedendo prima di tutto di ridurre le emissioni e aumentare i sequestri sia per noi la via più corretta per arrivare a un net zero ma anche per fare carbon farming grazie mille Amedeo tu volevi dire qualcosa professor Alpi vicepresidente dell'Accademia dei Giorgofili solo non so se definire le domande o comunque osservazioni ma solo nella relazione di di Bindi quando si è presentato le tre piante quindi grano poi gran turco e girasole ecco si sono presentate piante assolutamente molto importanti per la nostra regione e con caratteristiche culturali diverse sono state sottolineate molto bene da Bindi mi chiedo se nella diversità del comportamento per esempio in particolare il mais non si è stato influenzato mi rendo conto delle molte variabili non si è stato influenzato anche dal metabolismo fotosintetico che è sostanzialmente diverso perché si tratta di una C4 ecco mi chiedevo se questo può entrare nelle varie implicazioni tipo anche di tecnica culturale eccetera questo era un aspetto un altro è proprio su questi cereali una strategia che sarebbe straordinaria così a livello globale e proponibile per tutto il mondo se si riuscisse non è impossibile a fare del frumento perenne cambia l'intera strategia di tecnica culturale ecco questo è una cosa da perseguire perché dico perseguire perché le cose poi si ottengono nel mondo basta volerle se si concentra a livello globale un gruppo straordinario di ricercatori con i giusti mezzi si può ottenere tutto volevo un commento di Marco su questa allora riguardo al primo riguardo al primo sì ovviamente li abbiamo confrontato alla fine due due c3 una c4 e quindi un po' un po' quell'effetto un po' quell'effetto c'è sicuramente devo dire che leggendomi bene anche l'articolo gli autori dicono che in quello scenario che è lo scenario quello più pessimistico quindi con livelli di CO2 intorno alle 700 parti anche il risultato del modello che loro utilizzano diciamo è un po' è un po' diciamo ballerino e effettivamente questo potrebbe un po' spiegare perché insomma il discorso delle c3 e c4 si sa c'è questa c'è questa diciamo situazione nella quale attualmente siamo le c4 sono sempre più efficienti però poi se aumenta la concentrazione di CO2 in realtà le c4 rimangono lì e le c3 dovrebbero rispondere quindi in realtà questo effetto può essere dovuto anche da questo aspetto io credo che l'effetto lì maggiormente nello studio sia stato il fatto che una era irrigata l'altra non era irrigata e quindi chiaramente con la condizione climatica erano molto più sensibili l'altro cioè avevano come diciamo qualcosa che qualche modo le manteneva su quei livelli dovendo interpretare dovendo interpretare dovendo interpretare lo studio secondo la seconda domanda guarda la seconda domanda tra l'altro l'abbiamo avuto la settimana scorsa proprio lì alla scuola insomma in dipartimento c'aveva molto una collega del CREA che è venuta a farci una relazione proprio sui grani perenni e noi su questi ci avevamo iniziato un po' anche a lavorare ora lì c'è un'enorme difficoltà sul recupero dei semi perché insomma c'è grossi problemi di germinabilità e quant'altro questa ricercatrice che è probabilmente in Italia quella che ci ha dedicato più tempo e che ha cercato in tutti i modi di far capire che effettivamente avere delle delle piante perenni potrebbe avere dei vantaggi lei ci ha detto a chiare lettere che ad oggi ad oggi da un lato ha questa difficoltà del patrimonio genetico che probabilmente non è non è quello che servirebbe dall'altro però appunto c'è anche una difficoltà a trovare a trovare a farle inserire in una filiera che ne potrebbe dare perché una filiera interessante potrebbe essere quella per l'alimentazione per l'alimentazione animale perché come la produttività hanno una produttività molto più bassa però se tu le metti in dei terreni dove li tieni solamente diciamo un tanto da un grosso vantaggio di tutti il dissesto idrogeologico che hanno questo grosso apparato dovrebbero essere piano piano meno sensibili agli stress idrichi idrico scusami questo dovrebbe però lei ci ha detto che per ora c'è proprio una difficoltà oggettiva ora sai come tutte le cose e l'hai detto anche te lei è riuscita ad avere ora lei ha un finanziamento riuscita ad avere l'unico finanziamento riuscita ad avere è nei progetti quelli prima quindi la fondazione prima sul Mediterraneo e quindi lei questo è il primo progetto in cui diciamo che ha avuto questa questa noi li abbiamo provati con questo obiettivo noi abbiamo cioè abbiamo diciamo io sono presidente ora ma perché insomma per non è che proprio il mio diciamo ha la mia attività ma noi abbiamo l'ente toscano sementi che è questo ente di lunghissima di lunghissima tradizione che nasce per la coltivazione in montagna quindi l'idea nostra era quella sui terreni marginali e quindi di trovare uno spazio a questa eventuale possibilità di avere queste piante chiamiamole perenni o in questo caso si parla di frumento in terreni marginali dove altrimenti tu non faresti niente non coltiveresti e quant'altro e quindi abbiamo iniziato ricevendo il materiale da lei a far questo tipo però ti dico che da un punto di vista per ora di coltivazione ci sono ci sono diverse difficoltà ecco proprio partendo dal seme ecco partendo dal seme dalla germinibilità del seme e tutto il resto però questo sicuramente è un aspetto non 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 trascurabile soprattutto dove le condizioni chiaramente sono condizioni più estreme però ripeto lei che è venuta una settimana fa ha detto io questo è il primo finanziamento quindi come dire la prima volta sono riuscito qualcuno a credere che questo potrebbe essere che questo potrebbe essere una strada che che però effettivamente anche noi riteniamo soprattutto in determinate condizioni perché poi io sono sempre dell'idea che le scelte vanno diciamo legate al territorio no cioè quindi se io faccio agricoltura biologica in un determinato territorio perché nel contesto generale è la migliore cosa che io posso fare faccio agricoltura biologica non posso pensare di farla dappertutto e viceversa non posso fare neanche pensare di far l'altra dappertutto quindi anche questo se si riesce a contestualizzarlo ora effettivamente c'è un'estrema attenzione sul discorso delle aree interne le aree marginali ci sono tutta una serie di soprattutto però è più legato all'aspetto ambientale diciamo che all'aspetto produttivo perché effettivamente poter proteggere quindi avere qualcosa che ti protegge è utile però ecco questo insomma è una cosa anche la Fauci aveva dedicato diverso tempo però avevano avuto sempre questo problema di avere queste di avere queste varietà che comunque non riuscivano quindi alla fine poi lavoravano molto su varietà perenne incrociate con varietà chiaramente per cercare di combinare un po' la produttività perché sennò altrimenti ti viene una bella una bella pianta verde cioè praticamente ma lì allora può cultivare voglio dire portare foraggio insomma grazie Marco ci sono altri interventi vedo il presidente in sala se vuole dire qualcosa no allora abbiamo chiuso nell'orario giusto direi io direi che a questo punto la giornata è stata estremamente produttiva ricca di informazioni e ci ha anche dimostrato come forse un elemento così visto da lontano abbastanza spaventoso che il cambiamento climatico possa poi in un qualche modo non dico essere risolto ma comunque essere in un qualche modo così avvicinato dall'agricoltura in una maniera meno catastrofista di quanto si descrive e niente anche un punto d'incontro tra diverse scienze che si incontrano la climatologia la meteorologia le diverse parti dell'agricoltura quindi gli allevamenti vegetali e animali che sono tutti chiamati in causa quindi ringraziamo ancora gli oratori per essere stati qua averci portato le proprie conoscenze ringraziamo chi si è collegato chi è in sala chi è fuori e auguriamo buona giornata e ci vediamo il 4 di giugno per un evento agricoltura 2030 sulle foreste grazie 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 a tutti